Il castello errante di Owl di Diana Wynne Jones Capitolo 1 In cui Sophie parla ai cappelli Nella terra di Ingari, dove realmente esistono cose come stivali delle sette leghe e mantelli che rendono invisibili, essere il primogenito di tre fratelli è considerato una sfortuna piuttosto grossa. Colui che nasce per primo, infatti, è anche quello destinato a sbagliare per primo e sarà ancora peggio se sarà l'ultimo ad andarsene di casa in cerca di fortuna. Sophie Hatter era la primogenita di tre sorelle e non era nemmeno figlia di un povero taglialegna, cosa questa che le avrebbe dato una qualche possibilità di successo. I suoi genitori, anzi, erano benestanti e gestivano un negozio di cappelli per signora nella prospera cittadina di Market Shipping. È vero che la mamma di Sophie era morta quando la bambina aveva solo due anni e la sua sorellina Letty ne aveva uno, ed è anche vero che il loro babbo si era presto risposato, prendendo in moglie la commessa più giovane del loro negozio, una biondina molto graziosa di nome Fanny. Ed è pur vero che Fanny aveva dato ben presto alla luce un'altra bimba, Marta. Ma tutto ciò non servì a Sophie per bilanciare lo scomodo peso della primogenitura. Inoltre, la nascita di Marta avrebbe dovuto trasformare Sophie e Letty nelle due brutte sorellastre. Invece tutte tra le bimbe, crescendo, divennero molto carine, anche se Letty era considerata da tutti la più bella, e venivano trattate da Fanny senza alcun favoritismo, con la stessa identica dolcezza. Il signor Hatter era tanto orgoglioso di queste sue tre figliole, da far frequentare loro la miglior scuola della città. Sophie era la più studiosa delle tre, e passava buona parte del suo tempo a leggere. Così presto si rese conto che avrebbe avuto poche opportunità di vivere un interessante futuro. Questa consapevolezza le lasciava un po' di amaro in bocca. Tuttavia, riusciva a sentirsi ancora abbastanza felice nell'occuparsi delle sorelle minori, e nel prendersi cura in particolare di Marta, proprio mentre si avvicinava al momento in cui la più piccola sarebbe uscita di casa per affrontare il proprio destino. Poiché Fanny era sempre occupata in negozio, era Sophie a seguire l'educazione delle sorelline, che spesso litigavano furiosamente, prendendosi per i capelli perché Letty non si rassegnava a essere la secondogenita, e quindi quella che, dopo Sophie, avrebbe avuto un futuro meno brillante. «Non è giusto!» gridava Letty. «Per quale motivo Marta deve avere la parte migliore solo perché è nata per ultima? Io sposerò un principe, vedrete!» Al che Marta inevitabilmente rispondeva che sarebbe stata lei a diventare ricca in maniera riputante senza dover sposare proprio nessuno! A questo punto, Sophie era costretta a separarle a viva forza e quindi a ramendare i loro abiti. Diventò così, poco a poco, anche piuttosto abile nel cucito, e cominciò a confezionare per le sorelle dei vestiti molto carini. Per esempio, in occasione di quel calendimaggio, che segna l'inizio vero e proprio di questa storia, Sophie cucì un abito per Letty di un bel rosa intenso, talmente principesco da far dire a Fanny che sembrava uscito dal più pretenzioso negozio di Kingsbury. Già un bel po' prima di quella festa erano cominciate a circolare di nuovo delle chiacchiere sulla strega delle terre desolate. Dicevano che la strega avesse minacciato la vita della figlia del re, e che il sovrano avesse dato l'ordine al suo negromante personale, il mago Suleiman, di andare nelle terre desolate per trattare. Sembrava però che la missione fosse fallita, e la strega avesse ucciso Suleiman. Così, quando un alto castello nero, con quattro snelle torri che sputavano nuvole di fumo oscuro, apparve all'improvviso sulle coline di Marche e Cipping, tutti pensarono che la strega fosse di nuovo uscita dal suo territorio per spaventare l'intero paese, come aveva fatto cinquant'anni prima. La gente cominciò a essere terrorizzata, e nessuno usciva più da solo, soprattutto di notte. Quello che faceva maggiormente paura era il fatto che il castello non stesse fermo in uno stesso posto. A volte la sua sagoma indistinta incombeva nera e tetra sulla brughiera nord-ovest, altre si innalzava sulle rocce a este. Qualche volta, invece, scendeva dalle colline e si andava a posare sull'erica, appena oltre l'ultima fattoria a nord della cittadina. Spesso si riusciva a scorgere nel movimento, mentre le sue torri sputavano getti di fumo grigio e sporco. Tutta la popolazione avrebbe giurato che il castello sarebbe sceso a valle di lì a non molto, e per questo il sindaco cominciò a pensare di chiedere aiuto al re. Il castello, però, non scese lungo la valle. Rimase a vagare fra le colline mentre si spargeva la notizia che non apparteneva affatto alla strega, bensì a Owl, il mago. Il che non migliorava, però, la situazione. Si diceva, infatti, che il mago non muovesse il castello dalla zona perché si divertiva a collezionare ragazze dagli intorni. Alle giovani succhiava l'anima o sostenevano alcuni mangiava il cuore. Era un essere freddo e crudele e nessuna ragazza si sarebbe salvata se mai fosse caduta nelle sue mani. Sofì, Letty e Marta, come tutte le giovani di Market Shipping, erano state avvisate del pericolo e non potevano uscire da sole, cosa che finiva per essere una grande seccatura, mentre anche loro, come tutti, si chiedevano che cosa mai se ne facesse il mago di tutte quelle anime che andava collezionando. Tuttavia, le tre ragazze dovettero presto affrontare un'altra preoccupazione ben più grave e vicina. Il signor Hatter morì all'improvviso, più o meno quando Sofì stava per concludere gli studi. La famiglia si rese subito conto che il cappellaio era stato fin troppo orgoglioso delle sue figliole. Una volta pagate le rette scolastiche, la contabilità del negozio rivelava più debiti che crediti. Dopo il funerale, Fanny spiegò la situazione alle figlie. Le riunì nel salato della loro casa attiva alla capelleria, si sedette e disse «Temo che dovrete abbandonare quella scuola. Ho rifatto i conti cento volte, ma da qualunque parte si guardino, proprio non tornano. L'unico modo per mandare avanti il negozio è prendermi cura di voi e sistemarvi come apprendiste in qualche posto che possa assicurarvi un buon avvenire. Non è possibile tenervi tutti tra in negozio, non posso permettermelo. Così ecco la mia decisione. Prima Letty». Letty al solo sguardo era il ritratto stesso della salute e della bellezza che né il dolore né l'abito lutto potevano nascondere. «Ma io voglio continuare a imparare!» «E lo farai, tesoro», ribattè Fanny. «Ci ho sistemato da Cesari, la pasticceria sulla piazza del mercato. Hanno fama di trattare i loro apprendisti come re e regine. Sono sicura che lì sarai felice e imparerai un commercio che ti potrà essere molto utile. La signora Cesari è una mia buona cliente e una cara amica. Ha accettato di prenderti per farmi un favore personale, anche se al momento non ha veramente bisogno di un nuovo apprendista». Dalla risata di Letty tutte capirono che non era per nulla soddisfatta. «Bene, grazie. Non è una fortuna che mi piaccia cucinare!» Fanny non badò al tono un po' caustico con il quale furono pronunciate queste parole. Anzi, sembra sollevata. Letty a volta riusciva a essere testarda in modo decisamente fastidioso e inopportuno. «E ora Marta?» continuò Fanny. «So che sei troppo giovane per andare a lavorare. Così mi sono preoccupata di trovarti qualcosa che ti potesse garantire un lungo e tranquillo tirocinio e potesse esserti utile qualsiasi cosa tu decida di fare in futuro. Conosci, vero, la mia vecchia compagna di scuola, Annabelle Farfax?» La bionda Marta sgranò i disarmanti occhioni grigi su Fanny. Tutto in lei sembrava facile, ma in realtà sapeva essere cocciuta tanto quanto Letty. «Intendi quella donna che parla in continuazione? Ma non è una fattucchiera?» chiese alla madre, la quale si affrettò a risponderle con l'ansia nella voce. «Sì, Marta, ma ha una bella casa piena di clienti che vengono da tutta la vallata del folding. Poi una donna dal cuore d'oro e trasferirà su di te il suo sapere. Senz'altro ti presenterà la bella gente che lei conosce a Kingsbury. Una volta completata la tua educazione, ti ritroverai sistemata per tutta la vita.» «È una donna simpatica», concesse Marta. «Va bene, andrò da lei.» Mentre Sofia ascoltava, si rendeva conto che Fanny aveva sistemato tutto per il meglio. Letty, in quanto secondo genita, probabilmente non avrebbe mai avuto grandi opportunità. Così Fanny l'aveva sistemata dove avrebbe potuto incontrare un giovane apprendista, sposarsi e vivere felice e contenta. Marta, che era quella destinata al pieno successo, avrebbe avuto arti magiche e amici ricchi ad aiutarla. Per quanto riguardava lei personalmente, Sofì non aveva dubbi su quanto l'aspettasse, per cui non fu per nulla sorpresa dalle parole di Fanny. «Ora, Sofì cara, l'unica cosa giusta è che tu erediti la cappelleria quando io mi ritirerò, poiché sei tu la primogenita. Così ho deciso di tenerti come apprendista per darti l'opportunità di imparare il mestiere e i trucchi di questa attività. Cosa ne pensi?» Sofì avrebbe voluto dire che era semplicemente rassegnata a vendere cappelli, ma ringraziò, cercando di apparire grata per quella decisione. «Bene», concluse Fanny. «Allora è tutto a posto». Il giorno dopo, Sofì aiutò Marta a sistemare i suoi abiti in uno scatolone e la mattina successiva tutte rimasero sulla porta a salutare la più giovane, che se ne stava dritta e immobile sul caretto del barrocciaio. Sembrava ancora più piccola e sul suo viso si leggeva un evidente nervosismo. Marta era comprensibilmente spaventata, poiché la strada che portava la casa della signora Farfax, sull'alta valle del Folding, si inerpicava proprio sulle colline oltre il castello errante di Owl. «Se la caverà benissimo», disse Letti. Al contrario della sorella, aveva rifiutato ogni aiuto per fare i bagagli, e quando il carretto fu fuori dalla vista, radunò in fretta tutto quello che possedeva, lo infilò in una fedra e diede sei centesimi al garzone del vicino perché portasse con la carriola il suo fagotto da Cesari. Letti marciò dietro al ragazzo con un'espressione molto più fessosa di quanto Sophie si aspettasse. Anzi, aveva proprio l'area di una che volesse scrollarsi al più presto dalle scarpe ogni granello di polvere della cappelleria. Il garzone riportò poi un messaggio scribacchiato in fretta da Letti con il quale informava la famiglia di aver sismato le proprie cose nel dormitorio delle ragazze e di aver già avuto l'impressione che da Cesari ci si potesse divertire un sacco. Una settimana più tardi, il barrucciaio portò una lettera di Marta che comunicava come fosse arrivata sana e salva dalla signora Farfas. Diceva che era una donna deliziosa con la passione per l'apicoltura e che, per questo, metteva il miele su qualsiasi cosa. Per molto tempo quelle furono le uniche notizie che Sophie ebbe delle sorelle, anche perché lei stessa cominciò il suo tirocino il giorno in cui Letti e Marta se ne andarono dalla casa paterna. Naturalmente Sophie conosceva già piuttosto bene tutto quello che c'era da sapere sui cappelli. Fin da piccolina, infatti, era stata abituata ad attraversare il cortile e correre dentro e fuori dal vasto laboratorio dove venivano inumiditi i cappelli per poi essere modellati sulle apposite forme e dove venivano fatti, con cera o seta, i fiori, la frutta e gli ornamenti vari che servivano da guarnizione. Sophie conosceva tutte le persone che vi lavoravano, la maggior parte delle quali era già lì quando il babbo era ancora un ragazzo. Conosceva anche Bessi, l'unica commessa rimasta, e tutte le clienti della cappelleria. Conosceva tutti i fornitori e il barrocciaio che, dalle campagne circostanti, portava sul suo carretto i capelli di paglia grezza pronti per essere modellati. Sapeva come si facevano i feltri per i capelli invernali. Insomma, non c'era molto che Fanny potesse insegnarle, tranne forse il modo migliore per indurre le clienti a un acquisto. Fanny le aveva detto «Mia cara, sei tu che devi condurre la cliente al cappello adatto a lei. Per prima cosa falle vedere dei modelli che non le stiano bene. Così, appena indosserà quello che le sta meglio, sarà lei stessa a scoprire che è quello giusto. Sarà tutta soddisfatta e si convincerà da sola a comprarlo». In pratica, però, Sofì non rimase a servire il negozio. Dopo aver trascorso un paio di giorni a osservare le attività nel laboratorio e dopo aver speso un'altra giornata in giro con Fanny dal testitore e dal mercante di seta, Sofì fu destinata dalla matrigna a guarnire i cappelli. Se ne stava seduta nell'angosto retrobotteca cucendo rose e velette. Foderava di seta, cuffie e cappelli e le attornava con frutta di cera in astri secondo la tendenza del momento. Sofì si rivelò molto abile e questo lavoro le piaceva, ma non poteva fare meno di sentirsi isolata e un po' depressa. Gli operai della cappelleria erano troppo vecchi per essere divertenti e inoltre la trattavano come la futura padrona, non una di loro. Anche Bessy si comportava nei suoi confronti allo stesso modo e comunque l'unico argomento di conversazione della commessa era il giovane fattore che l'avrebbe sposata la settimana dopo il calendio maggio. Ma Sofì invidiava soprattutto la vivace attività di Fanny che era libera di andare e venire a suo piacimento e rimanere a contrattare con il mercante di seta tutte le volte che ne aveva voglia. L'unico aspetto interessante delle sue giornate era costituito dalle chiacchiere dei clienti che Sofì riusciva a cogliere dal suo bugigattolo. Nessuno riusciva a comprare un cappello senza fare dei pettegolezzi e lei seduta a cucire in retrobottega ascoltava le chiacchiere che si facevano in negozio. Veniva così a sapere che il sindaco non voleva mai mangiare verdure verdi oppure che il castello di Owl, il mago, era di nuovo in movimento sulle scogliere. E che suo terribile proprietario! A questo punto la voce si riduceva a un bisbiglio, come sempre quando si parlava del mago. Tuttavia, una volta Sofì riuscì a sentire chiaramente che il mese prima Owl aveva catturato una ragazza della valle. «Barba blu!» sussurrarono piano le voci in negozio per alzare subito dopo il volume, mentre affermavano che la nuova acconciatura di Jen Ferrier era proprio orrenda. «Quella era una ragazza che non avrebbe attratto neppure il mago, figuriamoci un uomo rispettabile!» Fra tutti i bisbigli ce ne fu anche uno, fugace e impaurito, sulla strega delle terre desolate, tanto che Sofì cominciò a pensare che mago e strega avrebbero proprio dovuto incontrarsi. «Sembrano fatti l'uno per l'altra», fece notare il cappello che aveva in mano. «Qualcuno dovrebbe proprio organizzare una bella gara fra quei due!» Improvvisamente, ai primi di aprile, i pettecolezzi si incentrarono tutti su Letty. Si diceva che la pasticceria fosse incredibilmente affollata di giorno e di sera da gentiluomini che volevano essere serviti dalla nuova commessa e che compravano quantità enormi di dolciumi pur di parlarle. Letty aveva avuto ben dieci proposte di matrimonio, dal figlio del sindaco allo spazzino, ma lei le aveva rifiutate tutte dicendo che era troppo giovane per prendere una qualsiasi decisione. «Mi sembra che Letty si sia comportata finora in modo molto sensato», disse Sofì a una cuffia che stava foderando di seta plissettata. E Fanny commentò con piaciuta. «Sapevo che se la sarebbe cavata benissimo». Sembrava che fosse sinceramente felice dalla notizia, ma Sofì venne da pensare che forse Fanny era doppiamente contenta perché Letty non era più nei paraggi. «Letty non sarebbe andata per niente bene con le clienti», disse alla cuffia, mentre pieghettava la seta del colore di un fungo verdastro. «Avrebbe fatto sembrare affascinante anche un vecchiume triste come te. Le altre donne guardano Letty e perdono ogni speranza». Man mano che il tempo passava, Sofì parlava sempre di più con i cappelli, visto che non c'era nessun altro con cui scambiare quattro chiacchiere. Fanny se ne stava fuori quasi tutto il giorno a mercanteggiare o a cercare di invogliare le signore a nuovi acquisti, mentre Bessie era impegnata a servire e a comunicare a tutti i suoi progetti matrimoniali. Sofì prese così l'abitudine, man mano che finiva un cappello e lo metteva sull'apposita forma, di fare una breve pausa dal lavoro. Si soffermava a valutare il copricapo, che in quella posizione sembrava una testa senza corpo, quindi gli spiegava che avrebbe dovuto essere la sua proprietaria, gli descriveva l'immaginario fisico sottostante, lo blandiva e lo adulava, proprio come avrebbe fatto con una cliente. «Lei, mia cara, ha veramente un fascino misterioso», disse a una veletta che lasciava intravedere dei piccoli strass. A un cappello color crema con delle rose che spuntavano al di sotto dell'ampia tesa predisse invece un ricco matrimonio, mentre una paglietta verde con un piccolo vermiciattolo, adorna di una lunga penna arricciata dello stesso colore, non potè far a meno di dire «sei proprio giovane e fresca, come una fogliolina primaverile». Alle cuffie rosa sussurrava che avevano il fascino delle fossette di una bimba, mentre i capelli eleganti rifiniti in velluto diceva che erano intelligenti e arguti. Alla cuffietta con la seta plissettata color fungo disse «hai un cuore d'oro e una persona di alto rango lo vedrà e si innamorerà di te». Questo solo perché provava pietà per quella cuffia, che sembrava così disadorna, austera, un po' triste. Il giorno successivo a quella frase, Chen Ferrier entrò in negozio e comprò la cuffietta triste. Sofì fece capolino dal retro bottega e pensò che effettivamente la tenatura di Jane era un po' strana, come se la ragazza avesse attorcigliato i capelli un mazzo di bastoncini. Era un vero peccato che Jane avesse scelto proprio quella cuffia. In quel periodo sembrava che tutti volessero acquistare cappelli e cuffie, forse era il frutto della propaganda fatta da Fanny o forse era semplicemente l'avvicinarsi della primavera. Stava di fatto che gli affari della cappelleria avevano preso il volo, tanto che Fanny cominciò a dire in tono un po' colpevole che non avrebbe dovuto essere così precipitosa nel piazzare Marta e Letti fuori casa, perché a quel punto avrebbero potuto benissimo cavarsela tutte quante con i proventi del negozio. Mentre i giorni di aprile correvano veloci verso il calendimaggio, c'era talmente tanto da fare nella cappelleria che Sofì aveva dovuto indossare un contegnoso abito grigio e servire il negozio. Ma tale era la richiesta che non riusciva a guarnire i capelli fra una cliente e l'altra, per cui ogni sera la ragazza doveva portarsi il lavoro a casa, dove lavorava alla luce della lampada fino a notte fonda per poter avere dei cappelli da vendere il giorno successivo. I copricapo più richiesti erano le pagliette verdi vermicello, come quella della moglie del sindaco, seguita dalle coffiette rosa. Poi, la settimana prima del calendimaggio, entrò al negozio una cliente che voleva la stessa coffietta color fungo che indossava Jen Ferrier il giorno che si era imbattuta nel conte di Catterac. Quella notte, mentre cuciva, Sofì ammise a se stessa che la sua vita era veramente triste e monotona. Invece di parlare ai cappelli, man mano che li finiva, cominciò a provarli e a guardarsi nello specchio. Ma fu un errore. Il serio vestito grigio che indossava non le donava per nulla, soprattutto lo che aveva gli occhi cerchiati di rosso dal troppo cucire, e non le stavano bene né le pagliette verdi né le cuffiette rosa, visto che i suoi capelli erano del colore rossiccio dorato della paglia. La cuffia color fungo poi la faceva sembrare ancora più depressa. Sembro proprio una vecchia domestica, disse all'immagine riflessa nello specchio. Non che volesse imbattersi in un conte come era successo a Jane Farrier, e non sognava neppure mezza città ai suoi piedi come era capitato a Letty, ma voleva fare qualcosa. Non sapeva nemmeno lei cosa, che fosse un po' più interessante del guarnire i cappelli. Se ne andò a letto, riproponendosi di trovare il tempo il giorno dopo di andare a trovare sua sorella da Cesari. Ma non andò. Vuoi che non riusci a trovare il tempo? Vuoi che non riusci a trovare l'energia per farlo? Vuoi che il percorso le sembrasse troppo lungo? Vuoi che le tornasse in mente il pericolo che poteva correre di incontrare il mago Hull? Sofì non si mosse né quel giorno né i successivi. Anzi, ogni giorno Sofì incontrava una nuova difficoltà che le impediva di andare a trovare Letty. Era molto strano perché Sofì aveva sempre pensato di essere volitiva quasi quanto la sorella. Ora invece scopriva che c'erano delle cose che poteva fare solo quando non le fosse rimasta più neppure una scusa. È assurdo! La piazza del mercato è solo due strade più in là, se corro! E giurò a se stessa che sarebbe andata ad accesare il giorno del calendimaggio, quando anche la cappelliera avrebbe chiuso. Intanto arrivò anche in negozio un pettegolezzo nuovo. Il re aveva litigato con suo fratello, il principe Justin, che quindi era andato in esilio. Nessuno veramente sapeva il motivo del litigio, ma i soliti ben informati assicuravano che il principe, un paio di mesi prima, avesse attraversato la piazza del mercato sotto mentite spoglie, senza essere riconosciuto da nessuno, e se ne fosse andato. Il conte di Catterac era stato mandato dal re in cerca del fratello, quando si era invece imbattuto in Genferrier. Sophie, nell'udire tutte quelle chiacchiere, si sentì ancora più triste. Sembrava che le cose interessanti capitassero sempre solo agli altri. Di nuovo, pensò che sarebbe stato carino rivedere Letty. Finalmente giusse il calendimaggio. La gente festante cominciò a riempire le strade fino all'alba. Anche Fanny uscì di buon mattino, ma Sophie doveva finire un paio di cappelli prima di poter lasciare il negozio. Comunque si ritrovò a canticchiare mentre cuciva. Dopotutto anche Letty stava lavorando. Da Cesarei tenevano aperto fino a mezzanotte nei giorni di festa. «Comprerò uno dei loro dolci alla crema», decise Sophie. «Sono secoli che non ne mangio uno». Intanto sbirciava dalla vetrina la folla che riempiva la strada in un caleidoscopio di colori. Guardava i venditori di souvenir, le persone che camminavano sui trampoli, e si sentì veramente eccitata, felice. Ma quando alla fine si mise uno scialle grigio sul suo grigio vestito da lavoro e uscì in strada, non si sentì più tanto eccitata. Anzi, si ritrovò del tutto priva di forze. C'era troppa gente che quasi la travolgeva ridendo e urlando, c'era troppo rumore e troppa calca. Sophie sentì come sei mesi trascorsi, seduta a cucire, l'avessero trasformato in una vecchia o in una donna semi-invalida. Si strinse nello scialle e strisciò lungo i muri delle case, cercando di non essere calpestata da tutte quelle scarpe della festa o infilzata da tutti quei gomiti ricoperti da lunghe e ampie maniche di seta. Quando arrivò improvvisa da qualche parte sopra la sua testa, una scarica di tettonazioni, Sophie si sentì sul punto di svenire. Alzò lo sguardo e vide il castello del mago scendere dalle colline e scivolare veloce verso la città. Si è avvicinato al punto che sembrava volesse alzarsi in volo per poi posarsi sui cammini delle case. Da tutte e quattro le torri uscivano delle fiamme bluastre che si portavano dietro delle spaventose palle di fuoco blu che esplodevano alte nel cielo. Sembrava che il mago fosse offeso dal calendimaggio, al contrario, forse si stava unendo a modo suo ai festeggiamenti. Sophie era troppo terrorizzata per preoccuparsi di quale delle due ipotesi rispondesse a verità e sarebbe tornata volentieri indietro. Ormai aveva già percorso più di metà della strada, così si mise a correre verso la pasticceria di Cesari. E mentre correva pensava perché mai avesse sognato di voler vivere una vita interessante. Non potrei sopportarla, sono troppo paurosa. Succede se sei la più vecchia di tre sorelle. Quando raggiunse la piazza del mercato, la situazione diventò, se possibile, ancora peggiore. Nella piazza si trovavano maggior parte delle taverne della città e compagnie di giovani già ebbre di birra entravano e uscivano dai locali. I ragazzi si pavoneggiavano nei loro mantelli, facevano roteare le lunghe maniche degli abiti a festa e battere i tacchi degli stivali adorni di fibra e luccicanti che non si sarebbero mai sognati di indossare in un giorno di lavoro. Si chiamavano e facevano ad altavoce ogni tipo di apprezzamento, cercando di avvicinare le ragazze, che da parte loro erano pronte a lasciarsi avvicinare, mentre anch'esse si pavoneggiavano negli abiti della festa e camminnavano a coppia o piccoli gruppi. Era normale nel giorno del calendimaggio, ma Sofì era terrorizzata anche da quella consuetudine. Tanto che quando un uomo giovane e vestito in un fantastico costume blu e argento la notò e decise di accostarla, Sofì si rifugiò nel vano della porta di un negozio e cercò di nascondersi. Il giovane la guardò sorpreso. «Va tutto bene, piccolo topino grigio», le disse ridendo, ma dalla sua risata traspariva una certa pietà. «Ti voglio solo offrire da bere, non avere paura». Lo sguardo compassionevole che le rivolse fece venire a Sofì la voglia di scavarsi una buca per la vergogna. Per di più, era un esemplare di maschio veramente affascinante. Forse solo un po' troppo vecchio, senz'altro sulla ventina, con un viso ossuto, sofisticato e capelli biondi acconciati in maniera piuttosto elaborata. Le sue maniche pendevano più lunghe di qualsiasi altra manica vi fosse nella piazza ed erano tutte smerlate e ricamate con inserti d'argento. «Oh no, vi ringrazio, signore, per favore, io…», balbettò Sofì, «io sto andando a trovare mia sorella». «Beh, allora fallo», il giovane scoppiò a ridere fragorosamente. «Chi sono io per impedire a questa graziosa dama di raggiungere la propria sorella? Ti piacerebbe se ti accompagnassi? Sembri così spaventata». Probabilmente voleva solo essere gentile, questo fece vergognare ancora di più Sofì, che disse tutto ad un fiato «No, no, la ringrazio, signore!». Poi fuggì via, più in fretta che poter. Il giovane aveva un intenso profumo di giacinti che seguì Sofì mentre se la dava a gambe. Che persona raffinata! Senza ulteriori incontri, Sofì arrivò da Cesare, dove tutti i tavoli, sia quelli esterni che quelli interni al locale, erano occupati da avventure pigiati gli uni contro gli altri che facevano un cano quasi maggiore di quello che si sentiva in piazza. Sofì individuò Letty nella fila delle ragazze dietro al bancone dal grappolo di contadinozzi che gridavano al suo indirizzo cercando di appoggiare i gomiti al banco e di attirare la sua attenzione. Letty era più carina che mai e forse un po' più magra. Stava mettendo dolci nei sacchetti più velocemente che poteva, poi dava un abile e secco giro a ciascun sacchetto mentre sorrideva agli avventori, guardandoli da sotto il gomito alzato nel rapido movimento. C'era un gran vociare e delle gran risate tutto attorno e Sofì faticò ad aprirsi un barco verso il bancone. Poi Letty la vide. Per un attimo rimase interdetta, quindi i suoi occhi e le sue labbra si allargarono in un sorriso mentre urlava il nome della sorella maggiore. «Posso parlare con te da qualche parte?» urlò dirimando Sofì, che si sentì del tutto disarmata di fronte a un grande gomito ben vestito che la spingevano indietro. «Solo un momento!» gridò Letty per superare il frastuono. Poi si volse verso la ragazza che le stava accanto e le bisbigliò qualcosa all'orecchio. La ragazza fece di sì con il capo e scopiò in una sciocca risata prendendo il posto di Letty e apostrofando la folla di giovani con un stentoreo. «Adesso avrete me! Chi è il prossimo?» «Ma io voglio parlare con te, Letty!» gridò il figlio di un agricoltore della zona. «Invece parlerai con Carrie perché io voglio parlare con mia sorella!» Nessuno parve prendersela e fecero girare Sofì su se stessa sospingendola alla fine del bancone dove Letty sollevò un'anta per lasciarla passare dietro il banco. Ma le raccomandarono di non tenere impegnata tutto il giorno la loro beniamina. Letty afferrò sua sorella per un polso e la trascinò nel retro del negozio in una stanza che aveva tutte le pareti occupate da rastrelliere e scaffalature di legno piene di file di dolci. Letty prese due sgabelli e invitò la sorella a sedersi. Poi, con un'occhiata distratta, individuò un dolce lacrima sullo scaffale più vicino, lo prese e lo porse a Sofì dicendo «Tieni, potreste averne bisogno!» Sofì si lasciò andare sullo sgabello, aspirò a fondo il ricco profumo dei dolci e si commosse fino alle lacrime. «Oh, Letty, come sono felice di vederti!» «Sì, anch'io! Sono felice che tu sia seduta perché...» «Vedi, io non sono Letty, io sono Marta!» Capitolo 2 in cui Sofì è costretta ad andare incontro al suo destino. «Cosa hai detto?» Sofì, fissò incredula la ragazza che sedeva sullo sgabello di fronte a lei. Sembrava proprio Letty. Indossava uno degli abiti migliori di Letty, quello di una favolosa sfumatura blu che le stava perfettamente e metteva in risalzo i suoi occhi azzurri e capelli neri. Occhi e capelli erano quelli di Letty. «Io sono Marta!» «Chi è sorpreso mentre tagliozzava i mutandoni di seta di Letty. Io non l'ho mai confessato a Letty. E tu? Tu glielo hai mai detto?» «No», le rispose Sofì, sempre più stupita. Ora le sembrava di cominciare ad avvisare le sembianze di Marta. Riconosceva il suo modo di inclinare il capo e l'abitudine di abbracciarsi le ginocchia con le mani intrecciate mentre si girava i pollici. «Ma perché?» «Temevo che tu mi venissi a trovare, Sofì, e allora avrei dovuto dirtelo. Ora che l'ho fatto mi sento sollevata. Promettimi che non lo dirai a nessuno. Se lo prometterai, starei zitta. Lo so bene. Tu sei una persona d'onore.» «Te lo prometto? Ma perché? Com'è successo?» «Letty e io ci siamo messe d'accordo», cominciò a spiegare Marta, girandosi i pollici. «Lei voleva imparare le arti magiche mentre io non lo desideravo affatto. Letty ha cervelle, vuole un futuro in cui poterlo usare. Va a spiegarlo a nostra madre. La mamma è troppo gelosa di Letty per poter ammettere che quella ragazza abbia del sale in zucca.» Sofì non riusciva a credere che Fanny fosse così, ma non insistette. «Dimidità piuttosto. Mangia la tua pasta, Sofì. È buona. Anch'io sono intelligente, sai. Mi ci sono volute solo due settimane a casa della signora Farfax per trovare la magia giusta da utilizzare. Di notte mi alzavo e leggevo di nascosti i suoi libri. È stato facile. Finalmente le ho chiesto il permesso di tornare a far visita la mia famiglia e lei ha consentito. È una donna molto cara, pensava che io provassi una gran nostalgia di casa. Così ho preso la pozione magica, sono venuta qui mentre Letty è tornata dalla signora Farfax al mio posto. La prima settimana qui è stata la più difficile, poiché non sapevo nulla di quello che si supponeva io avessi già imparato. È stato terribile, ma poi ho scoperto di piacere alla gente. Puoi piacere, sai, se anche loro ti piacciono. E così è andato tutto bene. Visto che la signora Farfax non ha sbattuto fuori Letty, immagino che anche lei se la stia cavando benissimo. Sofì continuava a sbocconcellare la sua pasta senza neanche sentirne il sapore. Ma cosa ti ha spinto a fare tutto questo? Marta si appolla io meglio sul suo sgabello. Un largo sorriso le illuminò il volto che era ancora quello di Letty e mentre roteava i pollici in un allegro e tenero mulinello rosa confessò. Voglio sposarmi e avere dieci figli. Ma non hai ancora l'età? Sì, non sono abbastanza grande, convenne Marta. Ma tu capisci che se voglio mettere al mondo dieci bambini devo cominciare a darmi da fare. La soluzione che ho trovato mi permette di avere tutto il tempo che mi serve per vedere se la persona che ho scelto piaccio per quello che sono. L'effetto della pozione magica sta smanendo poco a poco, così io tornerò a essere gradualmente me stessa. Capisci? Sofì era così stupita che finì la sua pasta senza aver capito che cosa avesse mangiato e riuscì solo a chiedere. Ma perché proprio dieci figli? Perché quello è il numero di figli che voglio. Non lo sapevo. Beh, non era molto saggio sbagliare una cosa del genere mentre eri così impegnata a sostenere il desiderio di nostra madre che io me ne andassi in cerca del mio destino. Tu pensavi che le sue intenzioni fossero solo quelle? Lo pensavo anch'io. Almeno fino alla morte del babbo. Allora ho capito che stava cercando di sbarazzarsi di noi, mettendo Letty in un posto dove avesse avuto l'opportunità di incontrare un sacco di uomini e di sposarsi e mandando me il più lontano possibile. Ero furiosa. Così mi sono detta perché no, si può fare. E ne ho parlato a Letty, che era arrabbiata quanto me e ci siamo messe d'accordo per benino. Ora noi siamo soddisfatte, ma entrambe siamo preoccupati per te. Sei troppo intelligente e carina per rimanere piantata in quel negozio tutta la vita. Ne abbiamo parlato, ma non siamo riusciti a trovare una soluzione. Ma io sto bene, protestò Sofì. Sono un po' annoiata. Bene, puoi andarlo a dire a qualcun'altro. Non ti sei fatta viva per mesi, poi compari qui con quell'orrendo vestito grigio e quello scialle. Hai un aspetto che fa paura persino a me. Cosa ti sta facendo la mamma? Niente, rispose Sofì imbarazzata. Siamo state piuttosto impegnate. Ma tu non dovresti parlare di fan in questo modo, Marta. Lei è tua madre. E io le somiglio abbastanza per comprenderla, ribattè Marta. Questo è proprio il motivo per cui mi hai mandato così lontano. O meglio, ho cercato di farlo. Nostra madre sa che non si deve essere scortesi con qualcuno se lo si vuole sfruttare. Conosce bene il tuo forte senso del dovere e il tuo pallino sul fallimento del primo genito. Ti ha manipolato perfettamente e ora ti sta schiavizzando. Scommetto che non ti paga. Ma sono ancora un apprendista? Protestò Sofì. Lo sono anch'io, ma percepisco un salario. I Cesari sanno bene che me lo merito. Quel negozio di cappelli è diventato una miniera d'oro grazie a te. Sei stata tu a creare quel cappellino verde che ha trasformato la moglie del sindaco in una stupenda adolescente o no? Verde come un piccolo bruco. Sì, l'ho fatto io. Per non parlare della coffietta che indossava Jane Farrier quando ha incontrato quel nobile uomo. Continua Marta implacabile. Sei un genio con cappelli e vestiti e la mamma lo sa. Hai segnato irrevocabilmente il tuo destino quando hai cucito a letti quell'abito per il calendibaggio. Ora sei tu a far guadagnare il negozio mentre lei se ne va in giro a bighellonare. Va da fornitori a fare acquisti. Acquisti, strillò Marta facendo roteare verticosamente i pollici. I fornitori le portano via metà mattinata. L'ho vista io, Sofì. Io ho anche sentito le chiacchiere. Va in giro su un calesso a noleggio con abiti nuovi grazie ai soldi che tu le fai guadagnare e visita tutte le tenute giù per la valle. Si dice che stia trattando l'acquisto e la ristrutturazione di quella grande casa giù a Weyland. E tu? Tu dove stai? Beh, Fanny si merita di godersela un po' dopo aver lavorato tanto per mantenerci. Poi suppongo che io redditerò il negozio. Che bella prospettiva! esclamò Marta. Ascolta, Sofì! Ma proprio in quel momento due rastregliere vuote vennero ritirate attraverso un'apertura in fondo alla stanza e un apprendista si affacciò. Mi sembra di aver sentito la tua voce, Letty! Disse il ragazzo, con un sorriso legato alle orecchie e con tutta l'aria di voler flertare. La nuova sfornata è pronta! Dilla a quelli di là! La testa ricciuta e incipriata di farina scomparve, mentre Sofì pensava che fosse proprio un ragazzo simpatico. E si domandava se fosse lui il prescerto di Marta. Sua sorella, però, non le diede la minima opportunità di scoprirlo, visto che era già balzata in piedi continuando a parlare. Devo passare dolce alle ragazze di là! Aiutami! Prendi quell'estremità! Così dicendo, solevo la rastrelliera più vicina e Sofì la aiutava a farla passare per la porta che metteva nella pasticceria affollata e rumorosa. Devi fare qualcosa per te stessa, Sofì! Marta assimava un po' per lo sforzo, mentre ritornavano nel negozio. Letty ha sempre sostenuto di non poter immaginare quello che ti sarebbe successo una volta che noi due ce ne fossimo andate e non fossimo state più lì a darti un po' di rispetto per te stessa. Aveva ragione di preoccuparsi. Nella pasticceria la signora Cesare intanto sollevava la rastrelliera piena di dolci con le sue possenti braccia e gridava un paio di ordine a una fila di ragazzi che si precipitarono sul retro per prendere il resto della sfornata. Sofì fu costretta a urlare un saluto prima di scivolare via fra tutto quel trambusto. Non le sembrava giusto rubare altro tempo a Marta e poi voleva starsene da sola per pensare. Si avviò di corsa verso casa. In quel momento i fuochi d'artificio si alzavano dal campo vicino al fiume dove era stata allestita la spiera e sembravano competere con gli scoppi e le fiamme blu che uscivano dal castello di Owl. Sofì si sentì più che mai come un'invalida. Passò la maggior parte della settimana successiva a pensare e rimuginare sulle parole di Marta con l'unico risultato di sentirsi sempre più confusa e scontenta. Niente sembrava più essere come aveva immaginato che fosse. Era spalordita dalle sue sorelle. Per anni le aveva fraintese. In ogni modo non poteva credere che Fanny fosse il genere di donna descritto da Marta. Ora aveva un sacco di tempo per riflettere perché Bessie era luna di miele e lei se ne stava da sola in negozio per la maggior parte del tempo visto che il lavoro era rallentato dopo il calendimaggio. Le sembrava inoltre che Fanny fosse sempre più spesso in giro a bigollonare. Dopo tre giorni dalla sua visita in pasticceria, Sofì trovò il coraggio di chiederle. Non dovrei essere pagata? Certo tesoro, con tutto quello che fai, le rispose Fanny con calore, aggiustandosi in testa un cappellino guarnito di rose. Ne parleremo stasera, non appena avrò fatti i conti. Poi uscì e tornò solo quando Sofì aveva già chiuso il negozio e si era portata a casa i cappelli che dovevano essere rifiniti. Dapprima Sofì si sentì meschina per aver dato ascolta alle insinuazioni di Marta. Ma quando Fanny non fece più alcun accenno al suo salario né quella sera né le sere successive, allora cominciò a pensare che sua sorella avesse ragione. Forse mi sta davvero sfruttando, disse a un cappello che stava guarnendo con seta rossa e un pugno di ciliegie di cera. Ma qualcuno deve pur fare questo lavoro altrimenti non ci sarà più nessun cappello da vendere. Terminò il copricapo e cominciò a lavorare su un cappello bianco e nero, molto elegante nella sua semplicità. All'improvviso le balenò un pensiero per lei di tutto nuovo. Ha qualche importanza se ci sono dei capelli da vendere? Chiese a quello sul quale stava lavorando. C'era lo sguardo sui cappelli già pronti e sul mucchio ancora da guarnire. A cosa servite mai? Certamente a me servite pochissimo. E si trovò a un pelo dall'abbandonare la sua casa e andarsene in cerca di fortuna. Poi si ricordò che era la primogenita e che quella scelta non l'avrebbe portata a niente. Così riprese il suo lavoro sospirando. La mattina successiva era ancora scontenta e sola in negozio, quando una giovane cliente piuttosto insignificante entrò come una furia tenendo una cuffietta color fungo tutta plissettata per i nastri e facendola ruoteare. Guarda! strillò la ragazza. Mi avevi detto che era lo stesso modello indossato da Jane Farrier quando ha incontrato il conte. Invece mi hai ventito. A me non è successo proprio niente. Non è solo sorpresa. Sofì non riuscì proprio a trattenersi. Una che è stata tanto sciocca da indossare quella cuffia su un viso del genere non avrebbe avuto certo lacume di riconoscere lo stesso re se fosse venuto a chiedere l'elemosina, sempre che non fosse già stato trasformato in pietra. Guardandoti! La cliente la fulminò con un'occhiata piena di ira, poi lanciò la cuffia contro Sofì e si precipitò fuori dal negozio. Sofì spinse con cura la cuffia dentro al cestino dei rifiuti e si trovò a respirare con affanno. La regola era perse le staffe, perso il cliente. E lei aveva appena dimostrato la validità di quel principio. In ogni caso, anche se faceva fatica ad ammetterlo, trovò che la scena fosse stata piuttosto divertente. Sofì non fece in tempo a riprendersi che sentì un rumore di ruote e uno scalpitare di cavalli, mentre una carrozza oscurava la luce della vetrina. Il campanello della porta suonò e la cliente, più incredibile che avesse mai visto, veleggiò dentro il negozio in una trina di sabbia che le pendeva dai gomiti e uno scintillio di diamanti che ricoprivano il pesante vestito nero. Gli occhi di Sofì andarono immediatamente all'ampio cappello adorno da vere piumi di struzzo, tinte per riflettere i bagliori rosa, verdi e blu che mandavano le pietre dell'abito, piume che tuttavia restavano di un nero profondo. Quello era un signor cappello. La nuova venuta aveva un viso bello e curato, incorniciato da capelli castani che la facevano apparire giovane anche se... Ma lo sguardo di Sofì fu subito catturato dall'uomo che la seguiva, chiaramente più giovane della signora che accompagnava, capelli rossi, abito elegante, un viso assolutamente anonimo ma pallido e con un'espressione di profondo disagio. Quando incrocia i suoi occhi, la ragazza sconcertata vi lesse una sorta di orrore implorante. «Signorina Hatter?» la dama si rivolgeva a Sofì con voce melodiosa ma autoritaria. «Sì!» ribattè semplicemente la ragazza, mentre il giovane, forse il figlio, sembrava sempre più a disagio. «Mi hanno detto che qui vendete dei cappelli veramente divini!» continuò la signora. «Fammeli vedere!» Sofì, che non si fidava di se stessa nello stato d'animo in cui si trovava, si limitò a tirar fuori i cappelli senza dare alcuna risposta. Per di più, sentiva lo sguardo del giovane accompagnare ogni sua mossa e questo aumentava il suo imbarazzo. Nessun copricapo che aveva in negozio era l'altezza della classe di quella donna, ma prima avesse scoperto che i suoi cappelli non erano adatti a lei, prima quella strana coppia se ne sarebbe andata. Sofì, seguì il consiglio di Fanni e per prima cosa prese fuori i peggiori. La signora cominciò a scartare i cappelli uno dopo l'altro. «Fossette sulle guance!» dichiarò riferita la cuffietta rosa. «Gioventù!» disse rivolta a quella verde come un bruco, mentre il cappello con le paillette e i veli venne definito fascino misterioso. «Come sono ovvi! Non è nient'altro da mostrarmi!» «Sofì! Allora le porse l'elegante cappello bianco e nero, l'unico che forse potesse vagamente interessare a quella signora, ma lei lo guardò con disprezzo. «Questo non serve a niente e a nessuno. Mi stai facendo perdere tempo, signorina Hatter!» «Solo perché voi siete entrata qui e mi avete chiesto di vedere i cappelli? Questo è soltanto un piccolo negozio in una piccola città, signora, perché...» Intanto dietro alla donna il giovane inghiottiva a vuoto e sembrava voler mandare a Sofì un segnale d'avvertimento. «Perché vi siete presa il disturbo di entrare?» Sofì terminò la frase domandandosi cosa sarebbe successo a quel punto. «Io mi prendo sempre il disturbo quando qualcuno cerca di mettersi contro la strega delle terre desolate. Ho sentito parlare di te, signorina. Non mi interessa competere con te, non mi importa niente di te. Sono solo venuta a fermarti!» Una mano, uscita alla lunga manica nera e con un rapido gesto fluttuante, fu puntata verso il viso di Sofì. «Voi? Voi siete la strega delle terre desolate?» La voce era uscita dalla gola di Sofì, roca e tremante. Anzi, sembrava che la paura e lo stupore fossero gli unici padroni di quella voce. «Sì, sono io e questo ti insegnerà a intrometterti in cose che mi appartengono». «Penso proprio di non averlo fatto, ci deve essere un errore!» gracchiò a fatica Sofì, mentre il giovane, in preda dall'orrore, continuava a fissarle e seguitava non capirne il motivo. «Nessun errore, signorina Hatter! Vieni, Gaston!» Così dicendo, la strega si girò e raggiunse rapidamente l'ingresso del negozio, mentre l'uomo le teneva umilmente aperte la porta. La strega si volse di nuovo verso Sofì. «Ricorda che non sarà in grado di dire a nessuno di essere preda di un sortilegio!» La campanella della porta rintoccò come una campana funebre. Poi la strega scomparve. Sofì allora si portò le mani alla faccia, domandandosi cos'è che quell'uomo continuasse a fissare con tanta intensità. Sentì così una fitta rete di rughe. Si guardò le mani e vide che anche esserano grinzose tutte pelle ossa con grosse vene che coprivano il dorso e con occhi deformi. Si rialzò la gonna grigia e vide due cavigli ossute e decrepiti e due piedi che avevano sformato le scarpe tanto erano bitorzoluti. Le sue gambe erano diventate quelle di una novantenne e il dramma era che sembravano proprio vere. Sofì si avvicinò allo specchio e scoprì di doversi piegare in avanti se voleva vedere la sua immagine riflessa. Il volto nello specchio aveva un'espressione piuttosto tranquilla perché era ciò che ciò si aspettava di vedere. Il viso macilento di una vecchia pallido sotto il colorito bruno e contornato di ciuffi di capelli bianchi. Quelli che la fissavano erano proprio sui occhi anche se più gialli e accusi e con un'espressione piuttosto tragica. Non ti preoccupare vecchia mia, disse Sofia alla sua faccia. Sembri in buona salute. Inoltre il tuo aspetto attuale rispecchia meglio il tuo stato d'animo. Si mise quindi a riflettere sulla sua situazione nonostante tutto riuscì a farlo con distacco. Sembrava che tutto fosse successo nella più assoluta calma, come se lei fosse solo una spettatrice. Non si sentiva neanche particolarmente in collera con la strega delle terre desolate. Beh, naturalmente dovrò fargliela pagare non appena ne avrò l'opportunità. Ma nel frattempo, se Marta e Letty possono sopportare di vivere l'una nella pelle dell'altra, senz'altro sarò in grado anch'io di sopportare il mio aspetto attuale. Non posso però rimanere qui. Fanny si farebbe prendere dalle convulsioni. Vediamo. Questo vestito grigio è proprio adatto, ma avrò anche bisogno di uno scialle e di un po' di cibo. Arrancò verso la porta del negozio appese con cura il cartello con suo scritto chiuso. Le sue articolazioni scricchiolavano non appena si muoveva. Doveva camminare curva e lentamente, ma scoprì di essere una vecchia sana e piuttosto robusta. Non si sentiva debole o malata, semplicemente rigida nei movimenti. Si chienò a fatica per raccogliere lo scialle che si mise sulla testa e sulle spalle, come facevano le vecchie. Poi si aggirò per la casa, prese il borsellino che conteneva poche monete e fece un fagottino con pane e formaggio. Quindi uscì, badando di nascondere accuratamente le chiavi nel solito posto, e si incamminò un po' zuppicante giù per la strada, ancora sorpresa dalla calma che pervadeva il suo spirito. Si domandò se avrebbe dovuto passare a salutare Marta, ma poi non le piacque l'idea di non essere riconosciuta da sua sorella. Era molto meglio andarsene basta. Sofì decise che avrebbe scritto a entrambe le sue sorelle quando avesse raggiunto una meta qualsiasi là dove ora era diretta. Così continuò a camminare attraverso il campo dove si era tenuta la fiera, oltre il ponte e ancora oltre, sui sentieri della campagna circostante market shipping. Era una tiepida giornata primaverile e Sofì scoprì che essere decrepita non le impediva di godersi i profumi e la vista della fioritura del biancospino che bordava la via, anche se i suoi occhi erano un po' appannati. Poi cominciò a farle male la schiena, arrancava sul sentiero e a questo punto aveva bisogno di un bastone. Guardò attentamente ai bordi della strada per trovare un bastone qualsiasi. I suoi occhi però non erano evidentemente così buoni come avrebbero dovuto essere. Pensò infatti di aver visto un bastone circa un milio più avanti, ma quando ci arrivò vicino si resse conto che era la parte finale di uno spaventapasseri che qualcuno aveva gettato sulla sieve. Sofì lo sollevò. La testa dello spaventapasseri era costituita da una rapa che stava avvizzendo, e lei provò un senso di solidarietà per quella cosa. Così, invece di farlo a pezzi e prenderne il bastone, ficcò la parte superiore dello spaventapasseri fra due rami della siepe di biancospino, in modo che sembrasse voluttuosamente adagiato sulla siepe con le lunghe maniche sprindellate che fluttuavano sulle sue braccia stecchite. Ecco fatto! La sua voce era quanto mai gracchiante, e la risata suonava sgangherata. Né tu né io siamo molto in sesto, vero amico? Forse tornerai al tuo campo se ti lascio qui dove qualcuno ti potrà vedere. Così dicendo riprese il sentiero, ma un pensiero e attraversò la mente e tornò sui propri passi. Ora, se io non fossi destinata al fallimento a causa della posizione della mia famiglia, tu potresti tornare a vivere e potresti aiutarmi a fare fortuna. In ogni caso, ti auguro ogni bene. Si iniazzò di nuovo mentre si rimetteva in cammino. Forse era un po' matta, ma spesso le persone anziane lo erano. Trovò un bastone circa un'ora dopo, quando si sedette per riposare e mangiare il suo pane e formaggio. Aveva sentito dei rumori provenire dalla siepe dietro di lei, degli squitti strangolati seguiti da uno sbuffare che faceva muovere i petali del biancospino. Così si era piegata sulle ginocchia ossute per scrutare fra le foglie, i fiori e le spine dentro la siepe. Aveva quindi scoperto un cane grigio e magro. Era intrappolato da una corda attorcigliata a un robusto bastone. Il bastone era intrappolato fra due rami della siepe e il cane riusciva a muoversi a stento. Al comparire di Sophie aveva cominciato a strabuzzare gli occhi in maniera selvaggia. Da ragazza, Sophie aveva paura di tutti i cani. Anche ora, da vecchia, era piuttosto allarmata dalle due fili di denti bianchi e aguzzi che spuntavano dalla bocca di quella creatura. «Nella mia condizione attuale non vale la pena di preoccuparsi troppo», riflettè ad alta voce e si mise a cercare le forbici da lavoro che teneva sempre in tasca. Ragionse il cane facendosi strada fra i rami e cominciò a lavorare sulla corda per tagliarla. Il cane, un esemplare alquanto selvatico, cercò di sfuggirle e ringhiò, ma Sophie continuò a tagliare la corda mentre cercava di rabbonirlo. «Morirai di fame o ti strangolerai, vecchio mio, a meno che tu non mi permette di liberarti. Sai cosa penso? Qualcuno ha già cercato di strangolarti. Forse è proprio a causa della tua indole selvaggia». La corda e il bastone erano attorcigliati strettamente e a Sophie ci voleva un bel po' prima di riuscire a tagliare quello stretto terribile vincolo. Ma alla fine il cane riuscì a divincolarsi e passare sotto il bastone. «Vuoi un po' di pane e formaggio?» gli chiese Sophie. Ma la bestia ringhiò, si fece strada a fatica fra i rami e sparì dalla parte opposta. «Che bella gratitudine!» sospirò Sophie sfregandosi le braccia scorticate. «E non mi è caso che tu lo volessi o no, mi hai lasciato un regalo». Raccolse il bastone che aveva tenuto intrappolato il cane e scoprì che era un bastone da passeggio vero e proprio, lavorato e con un puntale di ferro. Sophie finì il suo pane e formaggio, poi riprese il cammino. Il sentiero diventava sempre più ripido e il bastone si rivelò di grande aiuto. Ora aveva anche qualcosa alla quale rivolgersi e così cominciò a parlare con il bastone come faceva con i cappelli. «Ho fatto due incontri e non ho avuto neanche un cenno di magica gratitudine. Tuttavia sei un buon bastone e non mi lamento. Ma dovrò fare un terzo incontro? Magico, no? Mi domando come sarà!» Il terzo incontro avvenne verso la fine del pomeriggio, quando Sophie aveva già percorso un bel pezzo di strada verso la cima della collina. «Un contadino scendeva la strada venendo verso di lei. Un pastore, pensò Sophie, che se ne stava tornando a casa dopo aver pascolato le sue pecore. Era un uomo ben piantato, sulla quarantina.» «Bel tipo!» borbottò Sophie. «Questa mattina l'avrei considerato vecchio. Come cambiano i punti di vista?» Quando il pastore vide Sophie che murmurava fra sé e sé, si spostò cautamente sull'altro lato del sentiero e le si rivolse con grande gentilezza. «Buonasera a voi, madre! Dove state andando?» «Madre? Non sono tua madre, giovanotto! È un modo di dire!» Le rispose il pastore, avvicinandosi sempre più all'orlo del sentiero. «Stavo solo facendo una domanda gentile, visto che state camminando su per la collina ed è quasi sera. Non vorreste scendere ad Upper Folding prima che cada la notte?» Sophie non aveva preso in considerazione questo fatto, perciò si fermò in mezzo al sentiero riflettendo. «Non ha importanza tutto sommato!» disse più a sé stessa che al suo interlocutore. «Non puoi fare troppo il difficile quando te ne vai in cerca del tuo destino!» «Davvero, madre?» chiese allora il pastore, che aveva superato Sophie e si trovava ormai sotto di lei verso valle, e sembrava essere sollevato per la posizione raggiunta. «Allora vi auguro buona fortuna, madre! Posta al vostro destino non avere nulla a che fare con il bestiame delle persone buone!» E presa a scendere a lunghi passi quasi di corsa. Sophie lo fissò indignata. «Pensava che fossi una strega!» disse rivolta al bastone. Le avevano una mezza idea di urlare delle cattiverie alla volta del pastore per impaurirlo, ma poi le sembrò veramente poco gentile e continuò ad arrampicarsi su per la collina mugugnando. Presto le sepi lasciarono il posto a bordi di prato e il terreno cominciò a essere coperto di erica, di massi e di erbe giallastra. Sophie continuò a testarda, anche se cominciavano a farle male i piedi, la schiena e le vecchie ginocchia. Era troppo stanca persino per prontolare. Semplicemente arrancò su per la collina, ansando fino a che il sole fu quasi del tutto tramontato. A un tratto capì che non avrebbe potuto muovere un altro passo. Stramazzò su un sasso, domandandosi cosa avrebbe potuto fare a quel punto. «L'unica cosa fortunata alla quale posso pensare è una comoda sedia!» Da quella posizione si guardò intorno. Laggiù, nella valle, poteva vedere nella fiocca luce della sera market shipping, la piazza del mercato, le strade che ben conosceva e la pasticceria di Cesari. «Come sono ancora vicino!» Sophie si sentiva stanchissima e piuttosto sconsolata. «Tutta quella strada e sono ancora qui! Tutto quel camminare e sono ancora sopra il mio tetto!» La pietra sulla quale era seduta diventava sempre più fredda man mano che il sole calava e ora si era anche alzato un vento gelido che le faceva sempre più desiderare di essere comodamente seduta davanti a un fuoco. Incominciò a preoccuparsi anche degli animali selvaggi e del buio che stava scendendo attorno a lei. Si chiese se non fosse meglio tornare indietro, ma poi pensò che a quel punto sarebbe arrivata in città nel cuore della notte. Sospirò e si alzò di nuovo a fatica, tutta dolorante. Meglio proseguire. «Non avrei mai pensato che i vecchi dovessero affrontare cose del genere! Comunque sono pelle ossa! Non sono certo una buona preda per i lupi, almeno questo!» La notte stava scendendo velocemente e il terreno coperto di Erika si stava tingendo di grigio e di blu, mentre il vento si faceva sempre più tagliente. Le sue ossa screcchiolavano quando il rumore delle sue giunture fu superato da un altro rumore sinistro, il castello di Aul. Il mago stava venendo verso di lei attraverso la brughiera. Un fumo nero formava delle nuvole sopra le quattro torri. Appariva alto, enorme, terribile. Sofì si appoggia al bastone osservandolo. Non era particolarmente spaventata, anzi, si chiese come facesse a muoversi. E soprattutto cominciò a farsi strada nella sua mente l'idea che tutto quel fumo volesse dire che all'interno, da qualche parte, doveva pur esserci un grande camino, un fuoco. «Beh, perché no?» disse sempre in volta il bastone. «Il mago non vorrà certamente la mia anima per la sua collezione, visto che prende solo donne giovani». Allora sollevò il bastone, lo agitò alla volta del castello e gli ordinò con un urlo imperioso. «Fermati!» Il castello, ubbidiente, si fermò sbuffando sulla collina a circa 50 piedi da Sofì, che si sentì per battere da un senso di gratitudine, mentre si avviava zoppicando alla volta delle nere mura. Capitolo 3 In cui Sofì entra in un castello e accetta un patto. C'era una larga porta scura nel muro nero di fronte a Sofì e lei vi si diresse zoppicando spedita. Da vicino il castello era più spaventoso che mai e sembrava troppo alto per la sua forma irregolare. Per quanto Sofì poteva vedere nell'oscurità crescente, era costruito con grandi blocchi neri come il carbone e, come il carbone, i blocchi erano tutti di forma e misure differenti. Quando si avvicinò, dai blocchi cominciò a soffiare un vento gelido, che comunque non riuscì a spaventare Sofì. Continuava a pensare a sedie e caminetti. Così allungò una mano rabbiosa verso la porta. Ma la sua mano non riuscì ad avvicinarsi. Una sorta di muro invisibile la fermò, a un piede dalla porta. Sofì lo staggò nervosamente con le dita e, visto che non si accedeva a nulla, provò con il bastone. Il muro invisibile sembrava coprire tutta la porta, in alto fino a dove riusciva ad allungare il bastone, in basso fino a dove l'erica spuntava dai gradini della soglia. «Apriti!» gracchiò Sofì, rivolta al muro. Ma non accade nulla. «Bene, troverò la porta di servizio!» Sofì si diresse zoppicando verso l'angolo sinistro del castello, che era quello più vicino a lei e quello più a valle. Ma non riuscì a girare l'angolo, poiché il muro invisibile la fermò di nuovo. A questo punto Sofì pronunciò una parola che aveva imparato da Marta e che né le vecchie signore né le ragazze avrebbero dovuto conoscere. Poi arrancò su per la collina, verso l'angolo destro del castello, muovendosi in senso anti-orario rispetto a esso. Lì non incontrò barriere. Voltò l'angolo e si diresse, ormai molto seccata, verso la seconda grande porta nera che era nel mezzo di quel lato del castello. C'era una barriera anche su quella porta. Sofì la guardò accigliata. «Ma io dico, che razza di benvenuto è questo?» In quel momento giù dai bastioni soffiò un fumo nero che fece tossire Sofì. Ora era veramente arrabbiata. Era vecchia, fragile, infreddolita e ogni parte del corpo le doleva. La notte stava avanzando e il castello era lì a soffiare su di lei un fumo denso e nero. «Ne parlerò, Owl!» disse mentre girava l'angolo con rabbia. Lì non c'era nessuna barriera. Evidentemente si doveva girare intorno al castello in senso antiorario. Anzi, un po' più là c'era una terza porta, molto più piccola e male in arnese. «Finalmente la porta di servizio!» Non appena Sofì si avvicinò a quell'uscio, il castello cominciò a muoversi, il terreno tremò, il muro fu scosso da una vibrazione e scricchiolò e la porta cominciò a scappare lungo la parete. «Oh, non farlo!» urlò Sofì e le corse dietro colpendola ripetutamente col bastone. «Apriti!» La porta si apriva verso l'interno continuando a muoversi. Sofì riuscì a salire sul primo gradino della soglia con difficoltà. Poi, mentre i grandi blocchi intorno alla porta subbalzavano e scricchiolavano come se il castello stesse guadagnando velocità, riuscì a salire i gradini rimanendo in equilibrio prima su un piede, poi sull'altro. Sofì si chiese come mai il castello tutto sbilenco non cadesse di colpo sulla collina accidentata. «Che modo stupio di trattare un edificio!» E trattenne respiro mentre si lanciava all'interno. Così facendo dovette lasciare il bastone e attaccarsi alla porta aperta per non essere scaramentata fuori. Quando ricominciò a respirare regolarmente si accorse della persona che le stava di fronte e che teneva anch'essa la porta. Anche se superava Sofì di tutta la testa era ancora un ragazzino, solo un po' più vecchio di Marta. Sembrava stesse cercando di chiuderle la porta in faccia, respingendola di nuovo nella notte, lontano da quella stanza calda e fiocamente illuminata che si scorgeva dietro di lui. «Non avere l'impudenza di chiudermi la porta in faccia, ragazzo mio!» «Non lo stavo facendo!» protestò il ragazzo. «Siete voi a tenere aperta la porta? Cosa volete?» Sofì si sporse cercando di guardare oltre le spalle del ragazzo. Vide una grande quantità di cose che pendevano dalle travi e che probabilmente servivano a fare incantesimi, tracce di cipolla, mazze di erbe e strane radici. Poi scorse anche grossi libri rilegati in cuoio, bottiglie dai colli storti e un vecchio taschio umano scuro e sugghignante. Sul lato non coperto dalla mole del ragazzo si vedeva un caminetto con un piccolo fuoco che bruciava dietro la grata. Era un fuoco molto più piccolo di quanto si potesse intuire dal fumo che usciva all'esterno, ma questa era soltanto una stanza sul retro del castello. La cosa più importante per Sofì fu constatare che il fuoco aveva raggiunto quello stadio in cui piccole fiammelle blu e rosa danzano sui ceppi emanando un invitante tepore e che accanto al camino, proprio nel punto più caldo, c'era una sedia bassa con un cuscino. Sofì spostò il ragazzo con il braccio e si tuffò sulla sedia. Ah, che fortuna! E si accomodò per benino sulla seggiola. Era una vera beatitudine. Il fuoco le scaldava le articolazioni doloranti e lo schienare le sosteneva la schiena. Per toglierla da lì avrebbero dovuto usare le maniere forti o una potente magia. Il ragazzo chiuse la porta, raccolse il bastone e lo appoggiò con delicatezza a portata di mano di Sofì. Si rese conto che dall'interno non si avvertiva il moto del castello né il minimo rumore o la più lieve vibrazione. Che strana cosa! Ragazzo, dovresti dire al mago che questo castello finirà per crollare su se stesso se viaggerà ancora per molto. Il castello è tenuto insieme da un incantesimo, le rispose il ragazzo, e comunque credo che Howl non sia qui al momento. Questa era una buona notizia per Sofì che chiese un po' nervosa. E quando tornerà? A questo punto probabilmente non prima di domani. Posso invece esservi utile io? Mi chiamo Michael e sono il suo prendista. Questa era una notizia ancora migliore e Sofì aggiunse in fretta e con fermezza. Temo che solo il mago possa aiutarmi. E forse era proprio così. Aspetterò se non ti dispiace. Era invece evidente che a Michael dispiacesse e cominciò a ronzarle attorno con l'aria di chi non sa come comportarsi. Per fargli capire che non aveva nessuna intenzione di farsi mettere alla porta da un semplice apprendista, Sofì chiuse gli occhi fingendo di addormentarsi. Ma prima mormorò di al mago che il mio nome è Sofì. E per essere sicuro aggiunse la vecchia Sofì. Questo vorrà dire aspettare tutta la notte, ribatte Michael. Poiché era proprio quello che Sofì desiderava, fece finta di non averlo sentito e dopo poco si addormentò. Era così stanca da tutto quel camminare. Dopo un po' anche Michael riuscì a ignorarla e tornò a quello che stava facendo sul banco di lavoro, dove era posizionata la lampada. Sofì, nel dormiviglia, pensò che avrebbe avuto un'intera notte tranquilla e al sicuro, anche se per ottenerla aveva dovuto dire una piccola bugia. visto che Howl era una persona in gamba importante, non si sarebbe lasciato abbindolare. Ma Sofì aveva intenzione di essere ben lontano da lì prima del suo arrivo e prima che potesse sollevare qualche obiezione in merito alla sua presenza nel castello. Senz'altro il suo apprendista pensava che lei fosse profondamente addormentata e che fosse una vecchietta innocua. Lei, invece, si sorpresa a considerare che Michael fosse un ragazzo carino e gentile. Dopotutto era entrata con la forza in modo piuttosto maleducato, ma lui non le aveva fatto alcun appunto. Forse Howl lo trattava come un servo, anche se Michael non aveva un'aria sottomessa. Era un ragazzo alto, moro, con un viso aperto e piacevole, vestito in modo rispettabile. Ora era intento a versare da una fiaschetta dal collo ricurvo un liquido verde in un recipiente di vetro contenente una polvere nera, che teneva inclinato, attento a non versarne fuori neanche una goccia. Se Sofì non l'avesse visto intento in quella operazione avrebbe potuto scambiarlo per il figlio di un ricco proprietario terriero. Che strano! In ogni caso, le cose dovevano essere strane, pensò Sofì, dove si esercita la magia. Questa cucina, un laboratorio che fosse, era comunque molto intima e accogliente. E questo fu l'ultimo pensiero prima di addormentarsi profondamente e cominciare a russare. Non si svegliò quando dal banco di lavoro si sprigionò un lampo e uno schiocco sordo, seguito da un'imprecazione di Michael. Non si svegliò quando il ragazzo, succhiandosi le dita bruciacchiate, accantonò per quella notte la magia che stava preparando e tirò fuori dal ripostiglio pane e formaggio. Non si svegliò nemmeno quando Michael inciampò nel suo bastone, facendolo cadere nel tentativo di raggiungere il fuoco e riavvivarlo con altra legna. Infine, non si svegliò quando il ragazzo, guardando la bocca aperta di Sofì, disse rivolta al caminetto. Ha ancora tutti i denti! Non è la strega delle terre desolate, vero? Pensi che altrimenti l'avrei lasciata entrare? Ribatté il fuoco scoppiettante nel focolare. Michael raccolse delicatamente il bastone da terra, mise un grosso ceppo sulle fiamme con altrettanta grazia e se ne andò a dormire da qualche parte al piano di sopra. Nel cuore della notte, Sofì fu svegliata da qualcuno che rossava. Sussultò per poi scoprire piuttosto irritata che era lei quella che stava rossando. E parve di essersi addormentata solo per qualche istante e Michael era sparito con il lume. Senza dubbio aveva imparato quel trucco fin dalla prima settimana di apprendistato. Aveva lasciato il fuoco molto basso, che si bilava e scoppiettava in maniera irretante, e c'era uno spiffero gelito che le torturava la schiena. Sofì ricordò di essere nel castello del mago, e le venne in mente anche il tessio lignante appoggiato sul tavolo da qualche parte alle sue spalle. Rapprividì e ruotò il collo irrigidito, ma dietro di lei vite solo buio. Facciamo un po' di luce. La sua voce gracchiante suonò lieve, molto somigliante al crepitare del fuoco. Ne rimase sorpresa, poiché si aspettava l'eco di rimando delle alte volte del castello. Vide di fianco a sé un cesto di legno, allungò il braccio addormentato e faticosamente depose un fuoco. Immediatamente scintille verdi e blu si sprigionarono dal focolare per essere subito aspirate dalla canna del camino. Mise un secondo ciocco di legna nel fuoco e tornò a sedere, non senza aver nervosamente guardato in direzione del teschio, che in quel momento rifletteva un bagliore blu-violetto proveniente dal fuoco. La stanza era piuttosto piccola e non c'era nessun altro tranne quel teschio. E sopì, che si consolò pensando. Lui ha tutti e due i piedi nella tomba, io ancora uno soltanto. Tornò a voltarsi verso il fuoco che ora mandava fiamme blu e verdi. Ci deve essere del sale su quella legna. Si sistemò più comodamente allungando i piedi delle ossa deformi sul parafuoco e appongiando la testa nell'angolo della sedia. Fissava le fiamme colorate e cominciò a pensare a quello che avrebbe fatto la mattina successiva. Ma fu distratta perché le sembrò di riconoscere un viso tra le fiamme. Sarebbe un viso lungo e magro, di colore blu e con un naso affilato. Quelle fiamme verdi potrebbero essere i capelli ricciuti. Supponiamo che non me ne vada e attenda l'arrivo di Aul. Che cosa potrebbe succedere? Immagino che i maghi possano sciogliere gli incantesimi. Quelle fiamme violette lì in fondo formano la bocca. Hai delle zanne affilate amico mio e hai due cespugli verdi di fuoco come sopracciglia. In modo curioso le uniche fiamme arancioni erano sotto quelle verdi che sembravano sopracciglia proprio come se fossero occhi e ognuno aveva una piccola fiammella violetta nel mezzo tanto che Sofì le interpretò come pupille che la stessero guardando. Si rivolse quindi alle fiamme arancione fissandole. D'altra parte se fossi liberata dall'incantesimo mi ritroverei con il cuore mangiato prima di potermi voltare per andarmene. E tu non accetti l'idea che il tuo cuore sia mangiato ovviamente? disse il fuoco. Era veramente il fuoco a parlare. Sofì vide le labbra fiola muoversi mentre udiva le parole. La voce del fuoco era gracchiante quasi come la sua piena di crepitini della legna che bruciava. Certo che non lo voglio ma tu chi sei? Sono un demone del fuoco le rispose la bocca vermiglia poi aggiunse quasi piagnucolando sono legato a questa terra da un contratto non posso muovermi da questo punto. quindi la sua voce diventò dura e gracchiante quando le chiese e tu chi sei? Sicuramente sei il preda di un incantesimo. Queste parole scossero Sofì dal suo torpore. Te ne sei accorto? Puoi togliermi questo maleficio? Ci fu un silenzio interrotto solo dagli scoppiettì del fuoco. Gli occhi arancioni del demone studiarono Sofì da capo a piedi. È un sortilegio molto potente mi sembra opera della strega delle terre desolate. Hai indovinato è proprio così. Mi sembra che ci sia qualcosa di più gracchiò il demone. Distingo due livelli di sortilegio e inoltre tu non puoi parlare con nessuno della tua situazione tranne con persone che lo sanno già. Visto Sofì ancora per un momento. Dovrò studiarlo approfonditamente. E quanto ti ci vorrà? Mi potrebbe occorrere un po' di tempo. Poi aggiunse con un tono dolce persuasivo. Cosa ne dici di fare un contratto con me? Io spezzerò il tuo incantesimo se tu mi aiuterai a rompere il contratto che mi lega indissolubilmente a questo posto. Sofì guardò la scarna faccia blu del demone con circospezione. Aveva un'espressione astuta mentre le faceva la proposta. Tutto ciò che aveva letto in proposito le ricordava quanto fosse estremamente pericoloso fare un patto con un demone. E non c'erano dubbi sul fatto che questo sembrasse particolarmente cattivo con quei lunghi denti viola. Sei sicuro di essere del tutto onesto con me? Non completamente, ammise il demone. Ma vuoi rimanere così come sei ora fino alla tua morte? Quell'incantesimo ti ha abbreviato la vita di circa 60 anni se sono un buon giudice di certe cose. Questo è un pensiero scratevole, un aspetto a cui Sofì aveva cercato di non pensare fino a quel momento e faceva la sua bella differenza. Questo contratto che ti lega è con il mago di AOL immagino. Certo, rispose il demone con una voce di nuovo tegnocolosa. Sono legato a questo focolare e non posso muovermi nemmeno di un piede. Sono obbligato a fare la maggior parte delle magie qui dentro. Devo tenere insieme al castello, muoverlo e produrre tutti gli effetti speciali che terrorizzano la gente oltre a dover fare qualsiasi altra cosa che venga in mente al mago. AOL è proprio senza cuore. Sofì non aveva bisogno di sentirsi ripetere che il mago AOL fosse senza cuore. D'altra parte anche il demone era sicuramente piuttosto maligno. Ma tu non ricavi nulla da questo contratto? Non l'avrai stipulato se fosse così, le rispose il demone facendo tremolare tristemente la sua fiamma. Ma non avrei accettato se avessi immaginato di essere sfruttato in questo modo. Nonostante non si volesse far coinvolgere, Sofì provò una certa dose di compassione per il demone. Pensò a se stessa e intenta a decorare i capelli per fanni mentre la matrigna se ne andava in giro a fare niente. Bene, quali sono i termini del tuo contratto? Come dovrai fare a romperlo? Una fiammata viola attraverso il volto del demone. Accetti dunque il mio patto? Se tu accetti di spezzare l'incantesimo che grava su di me, disse Sofì col tono di chi pronuncia con coraggio parole fatali. Accetto! La faccia del demone si allungò in una lingua di fuoco su per il camino. Spezzerò il tuo incantesimo nel preciso istante in cui mi libererai del mio contratto. Bene, ora spiegami come dovrò procedere. Gli occhi arancioni lucicarono, ma si volsero guardare altrove. Non posso, il contratto prevede che né io né il mago possiamo rivelare ad alcuno come fare per scioglierlo. Sofì si rese conto di essere stata truffata. Aprì la bocca per dire al demone che allora poteva starsene nel camino fino al giorno del giudizio. Ma il fuoco, che l'aveva già intuito, crepitò. Non essere frettolosa! Potrei scoprire di che cosa si tratta se osserverai e ascolterai con attenzione. Ti prego di provarci. Il contratto con Owl non porterà vantaggi per nessuno alla lunga. Io sto mantenendo la mia parola. Il fatto che stia qui nel camino lo dimostra. Stava parlando seriamente agitandosi sui ceppi di legno e Sofì provò di nuovo con passione per lui. Ma se devo osservare e ascoltare, questo significa che dovrò rimanere nel castello, obiettò Sofì. Un mese dovrebbe essere sufficiente. Anch'io devo studiare il tuo incantesimo. Il tono del demone era convincente. Ma quale scusa plausibile posso addurre per poter restare? Penseremo a qualcosa. Owl nella maggior parte dei casi si rivela inutile, disse il demone assimilando velonosamente. È troppo preso da se stesso per accorgersi di cosa succede oltre il suo naso. Lo possiamo ingannare per tutto il tempo che tu vorrai rimanere al castello. Molto bene. Resterò. Ora pensiamo a una scusa. Sofì cercò una posizione comoda sulla sedia, mentre il demone rifletteva a voce alta producendo un borbottio che le ricordò il suono della propria voce quando parlava al bastone sulla via del castello. Le fiamme si alzarono in un ruggito felice e potente e lei rincominciò a sonnecchiare. Sentì alcuni suggerimenti del demone, fra i quali la possibilità di presentarsi a Owl come una vecchia zia di cui non si avevano da tempo notizie e un paio di altre scuse che non comprese chiaramente. Poi il demone cominciò a cantare una canzoncina con voce sua dente. Sofì non riconobbe alcune lingue a lei nota. Perlomeno pensò così, finché non comprese distintamente la parola casseruola. E alla fine si accorse che si trattava soltanto di una ninna nan. Cadde in un sonno profondo, col vago sospetto di essere stata ammaiata, ma non le importava. Presto sarebbe tornata libera dal maleficio. Capitolo 4 In cui Sofì scopre diverse cose strane Quando Sofì si svegliò la luce del giorno la inondava. Dato che non ricordava finestra nel castello, la prima impressione fu quella di essersi addormentata mentre adornava i cappelli e di aver sognato di lasciare casa sua. Davanti a lei il fuoco si era trasformato in un letto di bracci rosate e di cenere bianca, il che la convinse di essersi sognata al demone del fuoco. I suoi primi movimenti, però, la convinsero che non aveva sognato, perché in effetti tutto il suo corpo risuonava di scricchioli sinistri. Ai, sento dolori dappertutto! Esclamò con voce gracchiante. Si coprì il viso con le mani nodose e sentì al tatto la fitta rete di rughe. Si rese conto di aver trascorso il giorno precedente in stato di shock. Ora era veramente in collera con la strega delle terre desolate per ciò che aveva subito. Era profondamente, enormemente arrabbiata. Entrare come il vento dentro un negozio e trasformare una ragazza in una vecchia? Oh, cosa non le farei! Salto su dalla sedia per la rabbia, producendo un concerto di cric-crac, e si diresse verso una finestra, comparsa all'improvviso sul muro al di sopra del tavolo di lavoro. Con suo grande stupore, la vista che si godeva era il panorama di una cittadina di pescatori. Poteva vedere una strada bianca e tortuosa fiancheggiata da casupole all'apparenza povere e albere di navi oltre i tetti. Al di là degli alberi, colse lo scintillio del mare, che non aveva mai visto in vita sua. Dove sono mai? Chiese al teschio, poggiato sul bancone. Non mi aspetto comunque che tu mi risponda, amico mio! Aggiunse in fretta, ricordandosi di essere nel castello di un mago. Infine si voltò e cominciò a ispezionare la stanza. Alla luce del giorno, appariva piccola e incredibilmente sporca, con grandi travi nere che ricevano il soffitto. Le pietre del pavimento erano macchiate di grasso e c'era una montagna di cenere vicino al parfuoco. Le ragnatele pendevano dai travi come festoni polverosi e anche il teschio era ricoperto da uno strato di polvere. Sofì la spazzò via distrattamente mentre si chinava sull'acquaio posto di fianco al tavolo di lavoro. Rabbrividì di fronte al fluido, vischioso, rosa e grigio che occupava il fondo del lavello e quello bianco che pendeva dalla pompa sopra di esso. Au, ovviamente, non si curava dello squallore in cui viveva la sua servitù. Il resto del castello doveva essere oltre una delle quattro basse porte che si affacciavano sulla stanza. Sofì aprì l'uscio più vicino situato sulla parete di fondo oltre il tavolo di lavoro. Trovò così una vasta stanza da bagno che ti saresti immaginato di vedere solo in un grande palazzo. Piena di lussuose comodità come una toilette nascosta, un vano doccia e un'immensa vasca da bagno con i piedi a forma di zampa artigliate e specchi su tutte le pareti. Questa stanza era, se possibile, ancora più sporca e in disordine della precedente. Sofì si ritrasse dal gabinetto indietro e giò di fronte al colore della vasca e distolse lo sguardo disgustato dalla muffa verde che cresceva nella dozza. Riuscì facilmente a non vedere la propria immagine riflessa sugli specchi perché questi ultimi erano ricoperti da una serie di macchie e schizzi di sostanze sconosciute e improbabili. Quale stesse sostanze quasi certamente affollavano un largo scaffale sopra la vasca contenute in vasi di vetro, scatole e tubetti in pacchetti e sacchetti di carta scuri e mezzi sbrindellati. Il vaso più grande aveva un nome Potere Asciugamari scritto a lettere così contorte che Sofì non era del tutto sicura che non si trattasse invece di Polvere Asciugamani Raccolse un pacchetto a caso ma subito lo posò non appena lesse lo scarabocchio che le identificava come pelle Su un altro vaso era scarabocchiata la parola occhi mentre su un tubetto c'era la scritta perdenti Guardando dentro il lavandino con un brivido Sofì pensò che comunque il rubinetto sembrava funzionare Infatti quando ruotò il pomello verde-bluastro che avrebbe dovuto essere giottone l'acqua cominciò a scorrere nel lavandino portandosi via un po' di sporcizia Sofì si sciacquò le mani e la faccia stando attenta a non toccare nient'altro Non ebbe il coraggio di usare il potere asciugante Usò invece la sua gonna Uscita dal bagno si accinse ad aprire la successiva porta nera Questa dava su una scala di legno tutta sgangherata Ma non appena udì qualcuno muoversi al piano di sopra precipitosamente la richiuse In ogni caso sembrava conducessa a una specie di grande solaio Sofì zoppicò verso la porta successiva Si muoveva comunque ancora in maniera abbastanza agile e questo le confermò quanto aveva già scoperto il giorno prima cioè che era sì vecchia ma ancora in buona salute La terza porta si apriva su un cortiletto disordinato e circondato da alte mura di mattoni Conteneva una grande catasta di legna un cumulo di rifiuti di metallo ruote, secchi, lastre e fili di ferro e il tutto costituiva un ammasso talmente alto che quasi raggiungeva la cima del muro Sofì Chiuse anche quella porta piuttosto sconcertata perché quello che aveva visto non si adattava al resto del castello Tra l'altro le mura sembravano arrivare tanto in alto da nascondere le altre parti del castello Sofì pensò che il cortile interno corrispondesse esternamente a quella parte di castello di fronte alla quale era stata fermata dal muro invisibile la sera precedente Aprì la quarta porta Era semplicemente il postiglio delle scope e appoggiati su di esse stavano due bellissime mantelli di velluto ignobilmente impolverati Sofì richiuse lentamente la porta Rimaneva soltanto quella dalla quale era entrata nel castello che aprì con molta cautela Per un momento rimase a guardare le colline che scorrevano lentamente sotto di lei con l'erica che scivolava sotto la porta Sentì il vento fra i capelli e ascoltò il rombo emesso dalle pietre del castello mentre questo si muoveva Chiuse la porta e si diresse verso la finestra e da lì vede di nuovo la cittadina di mare che aveva visto in precedenza Non era un quadro Una donna aveva aperto la porta della casa di fronte e stava spazzando fuori la polvere Oltre la casa una vela gregiastra veniva issata sull'albero maestro disturbando uno stormo di gabbiani che stava volandoli attorno Il mare lucicava sullo sfondo Non capisco disse Sofì rivolta al testio Poi visto che il fuoco stava per estinguersi del tutto mise due grossi pezzi di legna nel camino e tolse la cenere Allora delle fiamme verdi si insinuarono come dei piccoli riccioli tra i due pezzi di legno Poi improvvisamente il lungo viso blu comparve e le fiamme verdi divennero i suoi capelli Buongiorno le disse il demone del fuoco Non dimenticare il patto che abbiamo stretto Niente di tutto quello che restava attorno era un sogno Sofì non si mise a urlare solo perché non faceva parte del suo carattere ma si sedette sulla sedia e pissò lungo il viso sfuggente del demone Così non prestò attenzione ai rumori che faceva Michael mentre si alzava e si ricordò di lui solamente quando se lo ritrovò a fianco imbarazzato Siete ancora qui allora? Più che una domanda era una constatazione esasperata Qual è il problema? Sofì tirò su col naso e cominciò Sono vecchia Beh succede a tutti prima o poi Non vorreste fare colazione? Sofì sentite in modo di essere una vecchia in buona salute infatti avvertiva i morsi della fame visto che non aveva più mangiato niente dal giorno precedente Accettò quindi la proposta di Michael con entusiasmo e quando il ragazzo si avvicinò alla dispensa Sofì fu presso alle sue spalle per cercare di vedere che cosa ci fosse di buono Temo che ci sia solo pane e formaggio Ma se c'è un intero cesto di uova ribatté Sofì E quella non è forse pancetta? Cosa ne dici se ci prepariamo qualcosa di caldo da bere? Dov'è il bollitore? Non c'è le spiegò Michael Aul è il sole in tutto il castello che possa cucinare Io so farlo benissimo stacca dal chiodo quella padella e te lo farò vedere Così dicendo Sofì cercò di afferrare la grande padella nera dalla dispensa nonostante Michael tentasse di impedirglilo Voi non capite il problema è calcifare il demone del fuoco non piegherà la testa per permettere ad alcuno tranne che Aul ovviamente di usare le sue fiamme per cucinare Sofì si voltò a guardare il demone del fuoco e questo ricambiò l'occhiata malignamente rifiuto di essere sfruttato Michael vuoi forse dire che non puoi bere niente di caldo a meno che Aul non sia in casa? Il ragazzo piuttosto imbarazzato noi col capo allora sei tu quello che viene sfruttato gli disse Sofì dammi qua e gli strappò dalle mani la padella vi mise dentro la pancetta poi raccolse alcune uova con un grosso mestolo di legno e marciò verso il camino ora calcifer vediamo di non dire altre sciocchezze piega quella testa non puoi farmi questo gracchiò il demone del fuoco certo che posso ribatté Sofì con quel tono autoritario che spesso era uscita a fermare le sorelle quando si picchiavano se non lo farai ti verserò dell'acqua in testa oppure prenderò le molle e ti toglierò tutta la legna nel frattempo si era inginocchiata sulle pietre del fuocolare non senza scricchiolare e aggiunse sussurrando oppure potrai ritirarmi dal nostro patto o ancor meglio raccontare tutao cosa ne dici maledizione imprecò calcifer Michael perché le hai lasciate entrare poi chi non la faccia imbronciata in avanti finché non si vide solo l'aureola di fiamme verdi danzare sui ceppi ti ringrazio disse sopì e si affrettò ad appoggiare la pesante padella sul cerchio di fuoco per essere sicura che calcifer non cambiasse idea spero che la tua pancetta si bruci sbuffò calcifer da sotto la padella sopì sistemò le fette di pancetta che cominciarono a sprigolare e avvolse un lembo della gonna attorno al manico della padella per poter cucinare senza bruciarsi la mano la porta si aprì ma lei non ci fece caso perché era intenta a sussurrare al fuoco non fare lo sciocco calcifer e mantieniti così perché adesso aggiungerò le uova salve Aul Michael rivolse al suo capo un saluto rassegnato allora Sophie si girò di scatto e fissò il mago che sfoggiava un abito sgargiante blu e argento e si era chinato nell'atto di appoggiare la chitarra in un angolo Aul scostò il ciuffo biondo che gli copriva la fronte rivelando due occhi verdi di un verde che ricordava il vetro di una bottiglia la guardò incuriosito e sul volto lungo e squadrato si poteva leggere un'espressione perplessa chi accidenti sei? dove ti ho già visto? sono assolutamente un'estranea menti Sophie con decisione ma dopo tutto qual era una mezza verità? Aul infatti l'aveva incontrata in quel calen di maggio che ora le sembrava tanto lontano e l'aveva chiamata piccolo tupino grigio avrebbe dovuto ritenersi fortunata per essergli sfuggita quella volta ma in effetti l'unica cosa che Sophie ora riusciva a pensare era che il mago Aul con tutta la sua credulità era solo un giovanotto sui vent'anni un ragazzino di fronte alla sua vecchiaia faceva una bella differenza essere vecchia pensò mentre girava la pancetta e sarebbe morta piuttosto di far sapere a quel ragazzo così pomposamente vestito che lei era la giovane della quale lui aveva avuto compassione quel giorno di maggio cuore e anima non c'entravano in questo momento Aul non lo avrebbe saputo mi ha detto che si chiama Sophie stava intanto spiegando Michael è arrivata la notte scorsa e come ha fatto a piegare Calchifer mi ha tiranneggiato spiegò Calchifer con voce lamentosa e soffocata da sotto la padella non sono molte le persone che riescono a farlo disse Aul pensierosa avvicinandosi al camino il profumo dei giacinti si mescolò all'aroma della pancetta mentre scostava Sophie con fermezza Calchifer non ama che qualcuno che non sia io cucini sulle sue fiamme disse chienandosi sul fuoco e afferrando la padella proteggendosi la mano con la manica del vestito passami altre due fette di pancetta e sei uova per piacere e raccontami perché sei capitata qui Sophie vissò il gioiello blu che pendeva dall'orecchio di Aul e cominciò a passargli un uovo dopo l'altro perché sono venuta qui giovanotto? dopo quello che aveva visto nel castello la scusa sembrava lampante ovviamente sono venuta per essere la tua nuova domestica davvero? Aul intanto rompeva con una mano le uova e buttava i gusci fra i ceppi dove Calcifer sembrava mangiarli di gusto facendo un sacco di smorpi e chi dice che sei la mia nuova domestica? io? rispose Sophie con aria risoluta e si affrettò ad aggiungere io posso pulire lo sporco di questo posto anche se non posso spazzar via la malvagità dal tuo cuore giovanotto Aul non è cattivo intervenne Michael sì che lo sono lo contraddisse Aul ti dimentichi come sia crudele in questo momento Michael poi alzando il mento verso Sophie se sei così ansiosa di renderti utile buona donna trova coltelli e forchette e pulisci il banco da lavoro sotto il bancone c'erano degli alti sgabelli e Michael cominciò a tirarli fuori e a monticchiare da una parte del tavolo tutte le cose di cui era ingombro per far posto alle posate che tirò fuori da un cassetto posto su di un lato del banco Sophie si mise ad aiutarlo non si era certo aspettata che Aul le desse il benvenuto ma non si era neppure sbilanciato a darle il permesso di restare una volta finita la colazione poiché Michael sembrava cavarsela benissimo da solo Sophie andò a prendere il suo bastone e con calma ma ostentatamente lo mise nel ripostiglio delle scope dato che questo gesto sembrava non aver attirato l'attenzione di Aul gli disse puoi tenermi per un mese di prova se ti fa piacere ma Aul si limitò a ordinare a Michael i piatti per favore e si drizzò con la padella fumante nelle mani mentre Calcefer balzò su con un ruggito di sollievo spingendo le sue fiamme in alto nel camino Sophie fece un altro tentativo per punzicchiare il mago se dovrò fare le pulizie qui per il mese prossimo mi piacerebbe conoscere il resto del castello io sono riuscita a trovare solo questa stanza e il bagno con sua grande sorpresa sia Michael che il mago scoppiarono in una sonora risata solo quando finirono di fare colazione Sophie scoprì il motivo della risata non solo risultava difficile punzecchiare Aul ma sembrava anche che non gli facesse piacere rispondere a nessun tipo di domanda una volta compresa questa sua tattica Sophie la smise di porre domande al mago e si rivolse a Michael spiegale tutto così la smetterà di essere noiosa disse Aul rivolta all'apprendista c'è solo la parte del castello che avete visto Sophie oltre a due camere da letto al piano di sopra cosa? Aul e Michael risero di nuovo e l'apprendista continuò a spiegare Aul e Cancifer hanno inventato il castello è il demone a mantenerlo in movimento il suo interno è costituito dalla vecchia casa di Aul a Porthaven ed è l'unica parte reale ma Porthaven è molte miglia lontano da qui giù verso il mare disse Sophie questa è pura malvagità e perché far andare avanti e indietro su e giù per le colline questo enorme e terribile castello e spaventare a morte tutti gli abitanti di Market Shipping Aul si strense nelle spalle che vecchia chiaccherona che sei ho raggiunto uno stadio della mia carriera in cui ho bisogno di impressionare tutti con il mio potere e la mia malvagità altrimenti anche il re non avrebbe una buona opinione di me inoltre l'anno scorso ho offeso qualcuno molto potente e ora ho bisogno di starmene alla larga quello sembrava un modo abbastanza strano per evitare qualcuno pensò Sophie ma immaginò che i maghi avessero abitudini diverse dalle persone comuni in breve scoprì che il castello aveva altre peculiarità avevano appena finito di mangiare e Michael stava impilando i piatti nel lavello ancora sporco quando si udì bussare forte prepondentemente alla porta calcifer di Vanpoo porta di Kingsbury Hall che si stava dirigendo verso il bagno andò invece alla porta sopra di essa c'era un pomello di legno quadrato fissato nell'architrave con una pennellata di vernice su ciascuno dei quattro lati la parte tinta di verde era rivolta verso il basso ma Hall prima di aprire la porta ruotò il pomello in modo che verso il basso ci fosse la parte dipinta di rosso fuori c'era un personaggio con una parrucca bianca rigida e un cappello a larghe tese indossava un abito viola scarlatto e dorato e reggeva un piccolo staffile decorato con nastri che sembrava un sonaglio per bambini si inchinò un profumo dolce di chiodi di garofano e fiori d'arancio pervase la stanza sua maestà il re presenta i suoi omaggi e mi manda consegnarvi il pagamento anticipato a fronte dell'ordine di duemila paia di stivali delle sette leghe disse questa persona dietro di lui Sofì aveva scorto una carrozza ferma in attesa in una strada piena di case sontuose decorate con incisioni dipinti e torri guglie e cattedrali di uno splendore inimmaginabile con suo grande dispiacere al messaggero occorse poco tempo per porgere al mago un borsellino di seta suonante dimonite e altrettanto poco tempo occorse a Howl per prenderlo inchinarsi a sua volta e chiudere la porta Howl ruotò il pomello quadrato con la parte verde verso il basso e mise in tasca il borsellino Sofì vide gli occhi di Michael seguire il percorso del borsellino con aria ansiosa e preoccupata Howl si diresse quindi verso il bagno ordinando al fuoco Calcefer ho bisogno di acqua calda e scomparve per un bel vò di tempo Sofì non riuscì a frenare la curiosità chi era Michael quella persona alla porta e soprattutto dove si trovava la porta da su Kingsbury dove vive il re penso che quell'uomo fosse il segretario del cancelliere e rivolto a Calcefer aggiunse vorrei che non gli avesse dato tutto quel denaro pensi che Howl mi lascerà restare? se lo farà voi non dovrete forzarlo in nessun modo le rispose Michael odia essere vincolato a qualsiasi cosa capitolo 5 che è veramente troppo pieno di lavaggi Sofì decise che l'unica cosa da fare era dimostrare a Howl di essere una domestica sopraffina un vero tesoro si legò un vecchio straccio attorno ai capelli ispidi e bianchi si arrotolò le maniche sulle braccia ossute e usò una vecchia tovaglia trovata nel ripostiglio delle scope come grembiule pensò con sollievo che doveva pulire solo quattro stanze non un intero castello così prese un secchio e una granata e si mise a lavoro ma questa cosa fa gridarono Michael e calci frencore inorriditi pulisco replicò Sofì decisa questo posto è una schifezza non ce n'è alcun bisogno disse calcifer e Michael di rincalzo mormorò oh la la sbatterà fuori a calci Sofì ignorò entrambi e continuò a sollevare nuvoli di polvere alcuni colpi alla porta vennero a interrompere questa scena calcifer levò le sue fiamme dicendo porta di portemen e fece volare mille scintille rosse e viola fra le nuvole di polvere mentre Michael lasciava il banco di lavoro e andava ad aprire Sofì vide Michael ruotare il pomello quadrato in modo che la parte colorata di blu fosse rivolta in basso quindi aprì la porta e le comparve davanti la strada che aveva visto dalla finestra fuori dalla porta c'era una ragazzina che si rivolse a Michael buongiorno signor Fisher sono venuta a ritirare l'incantesimo per la mia mamma se non sbaglio era l'incantesimo per la sicurezza della barca di tuo babbo mi ci vorrà solo un attimo tornò al banco di lavoro prese una polvere da un vaso posto su uno scaffale e la mise in un pezzetto di carta quadrato mentre Michael preparava la pozione la ragazzina spiò con curiosità Sofì che ricambia lo sguardo indagatore finalmente Michael tornò con il pacchettino contenente la polvere dille di spargerla per bene lungo tutta la barca durerà per molto tempo anche se ci starà tempesta la ragazzina prese il pacchetto e diede a Michael una moneta chiedendogli curiosa ma lo stregone è una nuova strega che lavora per lui? no si apprettò a rispondere Michael Sofì però si intromise parli di me? si bambina mia sono la strega migliore e più pulita delle terre d'ingari Michael chiuse la porta esasperato adesso lo saprà tutta Port Heaven e Aul potrebbe non piacere affatto così dicendo ruotò di nuovo il pomello con la parte verde in basso Sofì per un po' parlò fra sé e sé per niente pentita di quello che aveva fatto quando era una ragazza le sarebbe venuta la pelle d'oca per l'imbarazzo al solo pensiero di come si stava comportando da vecchia non le importava niente di quello che dicesse o facesse tutto sommato era un gran sollievo chissà come le era venuta in mente di dire che era una strega forse gliele aveva suggerito la scopa ma questo avrebbe potuto persuadere Aul a permetterle di restare visto che ormai tutti a Port Heaven sapevano che lei si trovava lì così quando Michael sollevò una pietra del caminetto e nascose la moneta della ragazzina Sofì continuò imperterrita con le sue domande cosa stai facendo Calcifer e io stiamo cercando di accantonare un po' di denaro rispose Michael con tono colpevole altrimenti Aul spenderebbe ogni penne che guadagniamo spendi d'accione dalle mani bucate gracchiò Calcifer spenderà il denaro del re più velocemente di quanto io non bruci un ceppo nel camino sciocco imprevidente Sofì spruzzò dell'acqua sul pavimento per non sollevare troppo polvere e Calcifer si ritrasse sul fondo del focolare Sofì ricominciò a spazzare dirigendosi verso la porta per meglio osservare il pomello quadrato il quarto lato del pomello che non era ancora stato usato era dipinto di nero domandandosi dove mai aprisse la porta quando il pomello era sul nero Sofì cominciò a togliere le ragnatele che pendevano dalle travi del soffitto con fuga tale che Michael si lamentò e Calcifer tarnutì proprio in quel momento Owl uscì dal bagno circondato da un alone di profumo meravigliosamente alzimato persino le filigrane d'argento e i ricami sul suo vestito sembravano essere diventati più luminosi si guardò intorno e si ritrasse verso il bagno proteggendosi la testa con la lunga manica del vestito fermati donna lascia stare quei poveri ragni queste ragnatele sono una vera disgrazia disse Sofì continuando il suo lavoro lascia stare le ragnatele e lascia in pace i ragni Sofì pensò che Owl avesse una malvagia affinità con quei ragni ma continuò imperturbabile produrranno soltanto nuove ragnatele e uccideranno le mosche cosa molto utile ribattè Owl tieni fermo a quella scopa mentre attraverso la stanza per favore Sofì si appoggiò alla scopa e guardò Owl che andava a prendere la chitarra quando il mago aveva ormai la mano sul chiavistello della porta Sofì gli chiese se il rosso porta a Kingsbury e il blu a Port Heaven dove porta il nero che vecchia ficcanaso il nero porta il mio privatissimo rifugio e non sei tenuto a sapere dove esso sia così dicendo Owl apre la porta sull'ampia prughiera e sulle colline che scivolavano sotto al castello quando tornerai? chiese Michael in tono scoraggiato ma Owl fece finta di non aver sentito e si rivolse invece a Sofì non devi uccidere un singolo ragno mentre sono via poi la porta spattò dietro di lui Michael chiede un'occhiata significativa a Calcifer e sospirò il demone di rimando scoppiettò in una maliziosa e gracchiante risata dato che nessuno le aveva comunicato dove Owl se le fosse andato dedosse che fosse di nuovo in caccia di ragazze e se le mise a lavorare con rinnovato vigore anche se non osò fare del male a nessun altro ragno dopo quanto le aveva intimato il mago cominciò così a battere le travi con la scopa urlando via ragni fuori dai piedi i ragni temendo per la loro vita cominciarono a scappare rifugiandosi in ogni fessura mentre le ragnatele cadevano come vecchi festoni a quel punto dovette spazzare di nuovo il pavimento dopo che si inginocchiò per passare la brusca vorrei che la smetteste le disse Michael seduto sulle scale fuori dalla sua portata mentre Calchifer nascosto dietro il parafuoco mormorava oh come vorrei non aver fatto alcun patto con te Sophie continuò a lavare vigorosamente il pavimento sarete entrambi molto più contenti quando qui sarà tutto più ordinato e pulito ma intanto io mi sento soltanto depresso protestò Michael oh rientrò a notte fonda e a quel punto Sophie era ridotta in uno stato in cui riusciva malapena a muoversi per la fatica fatta e se ne stava seduta retta sulla sedia sentendo dolore in ogni parte del corpo appena il mago fu entrato Michael lo prese per una manica e lo attirò dentro il bagno da dove Sophie sentì provenire un torrente di laventere a corate distinse chiaramente frasi come terribile vecchia impicciona e non ascolta una sola parola e persino Calchifer si mise a ruggire Owl fermala ci ucciderà tutti quanti quando Michael lo lasciò finalmente andare Owl rivolse a Sophie un'unica domanda hai ucciso qualche ragno naturalmente no rispose lei seccamente dato che i dolori la rendevano irritabile i ragni mi guardano e scappano via temendo per la loro vita ma che cosa sono ragazze le quali tu hai mangiato il cuore Owl rise no sono soltanto ragni e salì pensieroso al piano di sopra Michael sospirò poi entrò nel ripostiglio e continuò a rovistare finché non tirò fuori un vecchio letto pieghevole un materasso di paglia e delle coperte che mise nella nicchia sotto la scala pareste meglio dormire qui questa notte suggerì a Sophie significa che Owl mi permetterà di restare non lo so le rispose Michael irritato Owl si interessa solo a se stesso sono trascorsi almeno sei mesi prima che desse segno di accorgersi che vivevo qui ed ero diventato il suo apprendista ho solo pensato che un letto sia più comodo di una sedia Sophie allora lo ringraziò di cuore il letto si dimostrò veramente più comodo della sedia e quando Calcever si lamentò di aver fame e di aver bisogno di legna per la notte fu facile per Sophie allungarsi mettere un altro ceppo nel camino nei giorni che seguirono Sophie continuò a pulire il castello senza sentirsi più in colpa anzi trovò la cosa divertente dicendo a se stessa che stava cercando degli indizi lavò la finestra pulì il lavandino melmoso e fece sgomberare a Michael sia il tavolo da lavoro che tutte le scansie in modo da poterle spolverare a dovere tolse ogni cosa dagli armadietti staccò tutto quello che pendeva dalle travi e pulì ogni angolo della stanza a forza di spostare il teschio da un posto all'altro le sembrò che avesse assunto la stessa area sofferente che anche Michael aveva dipinto sul volto riuscì a scomodare persino Calcever infatti per pulire la cappa del camino lo costrinse a piegare il più possibile la testa in avanti cosa che il demone detestava più di ogni altra cosa Calcever si prese la rivincita quando Sophie scoprì che la fuligine si era posata dappertutto nonostante avesse appeso un tello di fronte al focolare il guaio di Sophie era di non avere metodo ora avrebbe dovuto rincominciare a pulire da capo questo suo darsi da fare per pulire il castello nascondeva comunque l'intento di cercare il nascondiglio del tesoro di Aul prima o poi si sarebbe di certo imbattuta nelle anime delle ragazze o nei loro cuori masticati oppure avrebbe trovato qualcosa che avrebbe spiegato il contratto fra Aul e Calcifer Sophie aveva pensato che la cappa del camino a cui Calcifer faceva da sentinella avrebbe potuto essere un ottimo nascondiglio ma trovò solamente un mare di fuligine con la cuore riempì alcuni sacchi che poi lasciò in cortile luogo questo che figurava in cima la lista dei possibili posti in cui cercare con cura ogni volta che Aul rientrava Michael e Calcifer si lamentavano a gran voce di Sophie il mago sembrava non accorgersene così come non sembrava notare i risultati della pulizia e nemmeno che la dispensa fosse sempre più piena di provviste quali dolci marmellate ogni tanto insalata verde come Michael aveva profetizzato la voce la voce la voce era corsa veloce per tutta Porteven così la gente cominciò a presentarsi alla porta per vedere Sophie che veniva chiamata signora fattucchiera a Kingsbury invece era stata nominata signora dei sortilegi infatti la notizia si era sparsa anche nella capitale sebbene la gente che bussava alla porta di Kingsbury fosse vestita assai meglio della gente di Porteven il loro comportamento era simile nessuno in entrambi i posti si azzardava a scomodare una persona potente senza una scusa così Sophie spesso si troveva a dover interrompere il lavoro per accettare un regalo fare un sorriso o pregare Michael di operare un incantesimo per qualcuno alcuni regali erano veramente carini dipinti collane di conchiglia e utili grembiuli Sophie usava quotidianamente i grembiuli e appese le collane e i dipinti nella sua cuccia sotto la scala che cominciò a prendere un aspetto sempre più umano e confortevole sapeva che tutto questo le sarebbe mancato quando l'avrebbe cacciata e cominciò a paventare sempre più il momento in cui l'avrebbe fatto non poteva andare avanti ignorando l'eventualità terminata la stanza principale pulì il bagno questo le occupò diverse giornate perché Hull vi trascorreva molto tempo ogni giorno prima di uscire appena lui se ne andava lasciando dietro di sé una scia di profumo e il bagno pieno di vapore Sophie vi entrava cerchiamo qualcosa che riguardi il contratto mormorò la prima volta alla vasca ma il suo vero obiettivo era la scansia dei pacchetti vasi e tubetti col pretesto di pulire accuratamente lo scaffale li spostò uno a uno e li esaminò accuratamente per vedere se dietro le etichette che dichiaravano pelle occhi e capelli ci fossero in effetti ragazze fatte a pezzettini minuscoli mentre procedeva con il lavoro si convinse che in effetti erano soltanto creme cipre e tinture se mai si fosse trattato di ragazze che non ce l'avevano fatta contro Howe doveva aver usato su di esse il misterioso contenuto del tubetto per denti una volta decomposte Howe avrebbe potuto sbarazzarsi facilmente dai resti nel lavandino ma in quel suo Sophie sperò che in tutti quei contenitori ci fossero solo dei cosmetici dopo aver pulito rimise ogni cosa al suo posto quella notte mentre sedeva dolorante sulla sedia Calchifer brontolò di aver dovuto prosciugare un'intera sorgente di acqua calda per tutte quelle pulizie dove sono le sorgenti di acqua calda domandò Sophie curiosa di tutto ciò che riguardava il mago e il suo castello la maggior parte si trova sotto le paluti di Porteven le rispose Calchifer ma se vai avanti a questo ritmo dovrò andare a prendere l'acqua calda nelle terre desolate quando la finirai di pulire troverai come rompere il mio contratto a tempo debito come posso scoprire i termini del contratto se all non è mai in casa ma se ne sta sempre via così tanto solo quando sta dietro una signora le spiegò il demone una volta che il bagno fu pulito e brillante Sophie attaccò le scale e il pianerotto quindi si spostò nella cameretta di Michael questi che sembrava aver accettato la presenza di Sophie come un ineluttabile disastro naturale nel momento in cui fu invasa la sua camera cacciò un urlo di costernazione e si precipitò su per le scale per salvare le sue cose più care che erano racchiusi in una vecchia scatola posta sotto al letto di legno mangiato da Tarly una volta raggiunta la scatola la strinse fra le braccia proteggendola dalle grimpie di Sophie e lei vide un nastro blu con sopra una rosa di zucchero e quelle che sembravano essere delle lettere così Michael è un'innamorata disse a se stessa mentre apriva la finestra che dava anch'essa su una strada di Port Haven e metteva le coperte a prendere aria considerando quanto ultimamente fosse diventata curiosa Sophie si sorprese di se stessa per non avergli chiesto chi fosse mai quella ragazza e come avesse fatto per tenerla al sicuro da Aul spazzò una tale quantità di polvere di pattume dalla stanza di Michael che quasi soppocò calcifer nel tentativo di bruciarlo mi condurrai alla morte sei senza cuore come Aul riuscì a dire il demone che mostrava solo la sua capigliatura verde e un pezzettino del lungo viso blu Michael mise la sua preziosa scatola nel cassetto del tavolo da lavoro e poi l'ho chiusa a chiave vorrei che Aul ci ascoltasse perché quella ragazza gli porta via così tanto tempo il giorno successivo Sophie pensò di cominciare a ripulire il cortile ma quel giorno a Porteven si mise a piovere l'acqua picchiava contro la finestra e si infilava nel camino facendo fischiare calcifer in modo assai fastidioso anche il cortile faceva parte della casa di Porteven così quando Sophie apriò la porta fu investita da uno scroscio di pioggia si protesse la testa col grembiule e cominciò a rivistare fra gli oggetti che si trovavano li ammassati e prima di essersi bagnata come un poccino trovò un grande pennello e un secchio di pittura bianca che portò in casa e con i quali cominciò a ridipingere le pareti grazie a una scala di legno trovata nel ripostiglio riuscì a dipingere anche il soffitto fra i travi la pioggia si protrasse per due giorni ma quando Howe apriva la porta con il lato del pomello verde girato in basso e usciva sulla collina c'era il sole e grandi nuvole bianche che si incorrevano sopra l'erica più veloci del castello Sophie pitturò di bianco anche le pareti del suo cantuccio delle scale del pianerotto e della camera di Michael quando Howe rientrò il terzo giorno non potei fare a meno di esclamare cos'è successo qui sembra tutto più luminoso Michael con voce da funerale pronunciò solo Sophie avrai dovuto indovinarlo disse il mago scomparendo nel bagno l'ha notato bisbigliò Michael la calcifer evidentemente la ragazza alla fine sta cedendo il giorno successivo cadeva ancora una fine pioggerellina sopra Teven Sophie si mese il fazzoletto in testa per coprirsi i capelli poi arrotolò le maniche e si legò il grembiule in vita poi armata di secchio granata e sapone si accinse a pulire la stanza di Owl col cipiglio di un angelo vendicatore non appena il mago uscì dal castello aveva lasciato per ultimo quella stanza per paura di quello che avrebbe potuto trovarvi addirittura non aveva usato fino a quel momento darvi nemmeno una sbirciatina era stato un atteggiamento abbastanza sciocco pensò mentre si nerpicava su per le scale a questo punto le era chiaro che fosse calci per affare la maggior parte delle magie nel castello Michael svolgeva tutto il lavoro di routine mentre Owl se ne andava a zonzo in caccia di ragazze e sfruttava gli altri due proprio come Fanny aveva sfruttato lei Sophie non aveva mai trovato Owl particolarmente spaventoso e ora nei suoi confronti provava solo del disprezzo arrivò 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 il pianerotto e trovò Owl fermo sulla soglia della sua stanza stava appoggiato allo stipide con aria indolente bloccandole completamente l'accesso no non lo fare le dissi in tono gentile voglio che la mia camera resti sporca grazie Sophie imperturbabile lo guardò fisso negli occhi da dove sei entrato ti avevo visto uscire ho immaginato quello che avevo intenzione di fare hai fatto del tuo peggio con Michael e Calcifer quindi una volta terminato con loro era logico che avresti rivolto su di me le tue attenzioni qualsiasi cosa ti abbia detto Calcifer non dimenticare che io sono un mago o forse pensavi che non fossi nemmeno in grado di una magia così piccola questo sconvolse tutte le supposizioni fatte poco prima da Sophie ma sarebbe morta piuttosto di ammetterlo tutti sanno che sei un mago giovanotto ma questo non cambia il fatto che il tuo castello sia il posto più sporco in cui io sia entrata così dicendo cercò di sbirciare la camera di Owl guardando sotto la manica del suo vestito il tappeto sul pavimento era ingombro di sporcizia come il nido di un uccello dalle pareti della stanza pendevano brandelle di intonaco e c'era uno scaffale pieno di libri dall'aspetto bizzarro e sospetto non c'era comunque traccia di cuore di ragazza masticati ma potevano essere dietro o sotto l'enorme letto a baldacchino le tende del baldacchino erano grigie e bianche tutte impolverate le impedivano di scorgere il paesaggio oltre la finestra Owl le sventrò la manica in faccia uhum non essere curiosa non sono curiosa protestò Sophie è che quella stanza si tu sei una vecchia ficcanaso terribilmente curiosa orribilmente autoritaria una vecchia che tiene la pulizia in maniera maniacale controllati stiamo diventando tutti i tuoi vittime ma questo è un porcile io non posso essere diversa da quello che sono si che lo puoi in ogni caso a me piace la mia stanza così com'è deve riconoscere che ho il diritto di vivere in un porcile se voglio ora scendi al piano di sotto e pensa a qualcos'altro da fare per favore odio litigare con la gente Sophie non poteva fare altro che scendere le scale col suo passo zoppicante con il secchio che le sbatteva contro il fianco era un po' scossa e soprattutto molto sorpresa che Owl non l'avesse cacciata dal castello su due piedi dato che non l'aveva fatto le venne subito in mente la mossa successiva aprì la porta a fianco alle scale e scoprì che aveva smesso di piovere quasi del tutto così andò deciso in cortile e cominciò a impilare con furia tutti i ferri vecchi che vi si trovavano nel muovere tutta quella ferraglia Sophie faceva un fracasso infernale così Owl ricomparve sulla porta incespicando nell'asta di ferro roginito che stava spostando nemmeno qui puoi pulire sei un vero terremoto lascia stare il cortile io so esattamente dove si trova ogni getto e se tu fai ordine non riuscirò più a trovare quello che mi serve per gli incantesimi di trasporto Sophie pensò che probabilmente era proprio quello il posto dove il mago teneva nascosto un cesto di anime o una scatola di cuori masticati si sentì talmente frustrata da urlare fare le pulizie è il mio compito qui allora devi inventarti una nuova ragione di vita le rispose Owl che per un attimo sembrò sul punto di perdere le staffe i suoi strani occhi chiari guardarono dappertutto senza soffermarsi su Sophie infine riuscì a controllarsi ora file in casa vecchia trottola sempre in movimento e trovati qualcos'altro con cui giocare prima che io mi arrabbi sul serio detesto arrabbiarmi Sophie incronciò le braccia ossute non le piaceva essere fissata da quegli occhi freddi come il ghiaccio certo tu odi arrabbiarti non ti piace fare niente che ti risulti sgradevole vero sei un opportunista dovrebbero chiamarti il mago svicolone ecco quello che sei scappiglia da qualsiasi cosa che non ti piaccia Paul la guardò con un sorriso tirato sulle labbra bene ora conosciamo i difetti l'uno dell'altra torna in casa brigati si mosse verso Sophie indicandole la direzione ma così facendo la lunga manica del suo braccio alzato si impigliò nel metallo arrugginito e si strappò dannazione esclamò Howe tenendosi i lembi strappati guarda che cosa mi hai fatto fare te la posso rammendare le diete un'altra occhiata glaciale ecco ci stai ricadendo devi proprio amare il servilismo Howe prese delicatamente i lembi strappati della manica fra le dita della mano destra e li unì non appena la sua mano lasciò la stoffa Sophie vide che lo strappero scomparso ecco fatto hai capito adesso? Sophie rientrò nel castello piuttosto abbattuta ovviamente i maghi non hanno nessun bisogno di lavorare come la gente comune e Howe le aveva dimostrato di essere veramente un mago perché non si sbarazza di me? disse Sophie un po' riguardo a se stessa e un po' a Michael che le rispose non lo so e la cosa mi colpisce penso che Calciver abbia comunque a che fare con la vostra permanenza in questo posto infatti tutti quelli che entrano nel castello o non lo notano nemmeno oppure ne sono spaventati a morte voi invece